Ottimo, perfetto. Allora, possiamo cominciare. Cominciamo subito dando, diciamo così, una norma di comportamento, a partire da questa serata per tutte quelle del corso. Non è necessario che in questo momento voi abbiate accesso sia all'audio che il video, ok? Potete spegnerli in questo momento, soprattutto perché così eviteremo riverberi, interferenze e cose del genere. Altrimenti dovremmo intervenire noi manualmente per spendere l'audio di tutti quanti voi i partecipanti. Ovviamente se avete delle domande, delle curiosità, potete interromperci in qualsiasi momento, ok? Oppure potete utilizzare la chat che avete qui a disposizione. Vedete che c'è una barra in alto di Teams con un simbolino della nuvoletta, ok? Potete cliccare là sopra e digitare quella che è la vostra domanda e sicuramente qualcuno di noi all'interno del gruppo dei formatori vi potrà dare l'informazione richiesta. Se volete poi eventualmente intervenire a voce, di fianco, ancora una volta, avete un'ulteriore icona che vi permette di alzare la mano. In questa maniera noi ci rendiamo conto di qualcuno che vuole intervenire e lasceremo sicuramente la parola, ok? Ancora una volta questa serata, come tutte quelle successive, verranno registrate, quindi avrete sempre modo di vederle con calma in qualsiasi momento della settimana, ok? Allora, volevo iniziare da qui fondamentalmente. Beh, io qui sono con voi questa sera fondamentalmente perché nella mia vita sono capitate due cose importanti, esattamente in queste due date che vedete. Il 6 marzo del 1993 io scoprivo per la prima volta le dicetrasmittenti. Ero, me lo ricordo ancora, a casa del mio compagno di banco delle scuole medie, all'epoca dovevo ancora compiere 14 anni, festa di compleanno. Entro così in camera sua con un gruppetto di amici e sento lui che sta parlando con qualcuno attraverso questo aggeggio elettronico. E da quel momento amore a prima vista, ve lo giuro. È stata una cosa incredibile. E subito dopo, insomma, parlando con lui, come vi dicevo, era anche il mio compagno di banco, insomma, mi prestò quello che era il libro che lui prendeva come riferimento. E poi ovviamente col tempo, man mano che sono cresciuto, ho avuto qualche disponibilità, anche diciamo così, per togliermi qualche spizzetto. Poi ovviamente sono stato anche in grado di trovare questi oggetti e di farli miei. E la seconda DAP appunto è questa, è il 15 novembre del 2011, giorno in cui a Genova, perché all'epoca mi trovavo lì per lavoro, sostengo l'esame, finalmente, dopo tantissimi anni, per ottenere la patente di radiomatore e diventare radiomatore. E fondamentalmente era un sogno che mi portavo dietro da tantissimi anni, come potete vedere. Una passione che era nata nel 93 e che poi si è concretizzata, insomma, quasi 20 anni più in là. E passione non è un termine che io ho scelto così a caso, perché in realtà, se voi ricordate, quando avete compilato il questionario di iscrizione al nostro corso, vi abbiamo fatto anche un paio di domande, cioè perché volete diventare radiomatore o radiomatrici? Chi è che vi ha, diciamo così, invitato o chi vi ha fatto conoscere questo mondo? E guardate un po', passione è proprio una di quelle parole che compare molto spesso tra le frasi che voi avete utilizzato per descrivere il vostro interesse per questo corso, tra cui anche affascina, affascina in generale, ok, conoscenza personale, il fatto di diventare amante delle radio, delle frequenze, anche curiosità, perché fondamentalmente non tutti quanti voi hanno un'esperienza progressa con il mondo delle comunicazioni radio in generale, ci sono anche persone che si affacciano verso questo servizio, perché io lo chiamo così, e adesso, magari mi hanno semplicemente sentito parlare distrattamente, ma non hanno mai praticato nulla sotto questo aspetto. Io voglio infatti darvi il benvenuto in questa maniera fondamentalmente, ringraziandovi per la passione che avete dimostrato fin dall'inizio, o per la curiosità che avete dimostrato fin dall'inizio, siete stati in 195 che avete risposto alla nostra pubblicità attraverso i social, di cui all'incirca 150 provenienti dalla nostra regione, che è l'Emilia-Romagna, e una cinquantina quasi, insomma, dal resto d'Italia. Il corso è aperto a tutti, non facciamo nessuna limitazione. Giustamente però poi vi daremo alcune informazioni per frequentare quella che è la sezione ARI più vicina a voi, perché questo è un aspetto fondamentale anche del corso stesso. Imparerete tante cose, ma dovrete soprattutto imparare a diventare radiomatori, che è poi anche il significato del nostro corso. Mi presento, io sono semplicemente una voce di un gruppo di formatori, che vedete tutti rappresentati qui in questa tabella. Io sono Andrea, il mio nominativo è IZ3WNH. Tre perché vengo, o meglio in questo momento, sono residente nel Veneto. Le mie origini però sono della Calabria, e di fatti qualche volta tra una slide e l'altra vedete anche il mio vecchio nominativo per determinate maniere. Io sono il presidente del comitato regionale Emilia-Romagna dell'Associazione Radiomatori Italiani, che è la più grande associazione nazionale che raggruppa il maggior numero di radiomatori in Italia. Ovviamente non è l'unica, però vi ripeto, questa è la più grande, è la più diffusa, è la più capillare su tutto il territorio nazionale. Noi rappresentiamo qualcosa come all'incirca 1150 radiomatori, sempre dell'Associazione. Siamo raggruppati in 17 sezioni locali che vanno da Piacenza fino a Rimini. Il nostro manifesto dell'attività è fondamentalmente quello di sperimentare tutto ciò che riguarda la radiotecnica, farci e scambiare cultura, non soltanto dal punto di vista radioamatoriale in generale, ma sotto ogni aspetto. L'amicizia poi lo scoprirete man mano che frequenterete il corso e anche e soprattutto la sezione ari di vostra competenza e diventerà poi una chiave fondamentale anche per l'apprendimento. E poi ovviamente quello che è il nostro scopo come attività, cioè tecnica e formazione. Cioè non smetterete mai di imparare. Anche noi, anche tra virgolette mi ci metto pure io, tra gli anzianetti, anche se in realtà insomma 12 anni di patenti radioamatorie non sono tantissimi, però sicuramente anche chi ha molta più esperienza non smetterà mai di imparare cose nuove, perché ovviamente la tecnologia cambia con il tempo e quindi mette sempre a disposizione delle nuove cose da imparare. Allora, come vi dicevo, questa è una serata di presentazione del corso. Fondamentalmente noi vogliamo fornirvi quelle che sono alcune informazioni basilari di chi sono i radioamatori e che cosa fanno. Ripeto, non tutti quanti voi hanno già un'esperienza pregressa nel mondo delle radiocomunicazioni e quindi sembra giusto che diamo a tutti quantomeno una stessa infalire natura di quello che si andrà a fare. Ovviamente poi vi spiegheremo come si diventa radioamatori, cosa c'è da fare, quali sono gli obblighi e i passaggi, diciamo così, da intraprendere per arrivare il giorno dell'esame davanti a una commissione. Ovviamente poi siete qui anche per sapere nei dettagli come è strutturato il corso e soprattutto anche quelli che sono i costi del corso. Erano comunque informazioni già rese disponibili sul nostro portale radiomatorisidiventa.it, però è giusto anche che qui si accettino domande e voi abbiate risposta. Allora, cominciamo con la prima parte della nostra presentazione di questa sera. Chi sono i radioamatori? Beh, fondamentalmente noi siamo qualcuno grazie a questo personaggio che è fondamentalmente il nostro padre, che è Guglielmo Marconi. Voi sapete che Guglielmo Marconi è stato l'inventore della radiotelegrafia senza fili. Cioè, trasmettere un segnale in radio, che è un messaggio poi a questo punto anche in termini codificato attraverso, diciamo così, telegrafia, ma senza l'utilizzo di fili. Il che è quello all'epoca, quindi siamo all'incirca inizio del 1900, è stata una rivoluzione totale, perché questo permetteva finalmente di liberarsi da dei vincoli, che poi sono tutti quei vincoli che noi oggi siamo, diciamo così, ormai abituati, perché possiamo andare in giro a passeggiare e fare chiacchierate al telefono con qualcuno, non siamo più costretti a fare una telefonata da casa oppure fermarci a una cabina telefonica, per dirvi. Fondamentalmente noi utilizziamo quelle che sono le radiofrequenze. Grazie alle sue conoscenze, grazie al suo intuito di scienziato, che è stato in grado di raccogliere quelle che erano le informazioni dell'epoca, rielaborarle e metterle poi in pratica attraverso anche, diciamo così, l'aspetto brevettuale, si può dire, perché poi alla fine ci ha fatto anche una società, Marconi, con le sue conoscenze. Ecco, noi grazie a lui oggi siamo qui a parlarvi di radioamatori. Ovviamente i radioamatori poi nel corso della storia, insomma di tutto il Novecento e ovviamente anche nei primi anni del 2000, hanno avuto anche un certo fascino dal punto di vista delle serie televisive o comunque di quello che è il cinema o la rappresentazione televisiva in generale. Si va per esempio da alcune scene di cartone animati in cui si vede qui il papà dei Griffin che utilizzano la radio, ma per esempio si può anche andare sui Simpsons. Ci sono dei film molto famosi, tipo per esempio Frequency degli anni 2000, proprio un intero film basato su questa comunicazione tra padre e figlio attraverso la radio e determinate condizioni. Più recentemente, per esempio, ci sono anche serie televisive molto, o meglio, diciamo così, di Netflix per meglio dire, molto famose appunto come Stranger Things o The Crown, dove praticamente i protagonisti, o ci sono alcune scene in cui sono coinvolti i radioamatori per fare comunicazioni tra i vari utenti, oppure anche Le vite degli altri, che è un altro famoso film. Io vi ho messo anche poi una lista completa di quelli che sono, diciamo, tutti quanti i film nella storia che in qualche maniera hanno delle scene o comunque trattano di scene in cui sono presenti dei radioamatori. Ovviamente poi questo materiale sarà condiviso con voi prossimamente. I radioamatori però non sono soltanto, diciamo così, una cosa carina, diciamo, per fare spettacolo. In realtà i radioamatori sono stati anche molto importanti storicamente. Ci sono stati dei momenti in cui eventi estremamente importanti dal punto di vista politico, soprattutto come questo della guerra delle Falklands del 1982, anni in cui l'Argentina aveva deciso di invadere un isolotto, diciamo così, dell'oceano atlantico che era di dominio della corona britannica, insomma. Ebbene, fu proprio un radioamatore residente su quell'isola che informò la madrepatria in Gran Bretagna appunto dell'invasione da parte dell'Argentina. E difatti adesso vorrei condividere con voi quello che fondamentalmente è uno spezzone di telegiornali dell'epoca degli Stati Uniti, dove appunto viene, sentirete la voce registrata di questo radiooperatore che comunica il fatto che l'isola sia stata invasa da circa 500 militari argentini. Controllo un attimo che abbia condiviso per bene lo schermo, perché non ho fatto caso prima, infatti. Ok, ricondivido adesso lo schermo, così adesso potrete anche sentire l'audio di questo video. Il video è in inglese, però sono riuscito anche a impostare quelli che sono i sottotitoli e la traduzione in italiano, quindi potete benissimo seguire la traduzione in italiano. Ok? First, here is Bob Dyke in London. Argentina claimed recovery of the Falklands hours before the British government admitted the invasion had taken place. I have to confirm that an Argentine military attack on Port Stanley in the Falkland Islands has taken place, and that Port Stanley is now occupied by Argentine military forces. The military odds were against the British from the outset today, only a handful of 60 to 70 Royal Marines and an additional civilian defense force to protect the island's 1,800 residents and more than 600,000 sheep. The Argentinians sent a fleet of warships loaded with an estimated 4,000 troops. A Falkland Island amateur radio operator monitored here in Britain described what he saw. Argentina says one of its officers was killed during the invasion. Apparently, none of the islanders was hurt. Most of Falkland's inhabitants are descendants of the British who expelled Argentina from the islands 150 years ago. Argentina says the Falklanders surrendered today as meekly as the sheep they've been raising there for generations. But here in London, the first response by some members of Parliament was anger. Ok, penso che possiamo anche terminare qui, per tanto poi il resto del pezzo giornalistico è un po' più politico rispetto a quello che è il messaggio principale che volevo mostrarvi. Quindi, come vedete, la stazione radioamatoriale non è soltanto divertimento, non è soltanto, diciamo così, tecnica, non è soltanto conoscenza, ma può avere anche un impatto piuttosto forte sotto determinati aspetti. E lo vedrete poi anche nel corso di questa serata. Il radiomatore si è sotto 100.000 aspetti veramente diversi. Si può andare dalla sperimentazione pura al cacciatore di collegamento, ma soprattutto si può anche poi fare volontariato, protezione civile, per esempio. Sono tutti quanti aspetti che vedremo questa sera. Allora, ritorniamo alla presentazione. Vediamo un po' che succede qui. Ok. Lasciamo dallo schermo intero. E andiamo qui, direi. Ok. Perfetto. Ci dovremmo essere. Quindi, quanti radiomatori ci sono più o meno nel mondo? Beh, si stima che all'incirca siamo in 3 milioni. E chi più, chi meno, insomma. Però questo deve essere più o meno un ordine di grandezza. La stragrande maggioranza di questi sono concentrati fondamentalmente in Giappone e negli Stati Uniti. Stati Uniti più che altro per questioni proprio di popolazione. In Giappone anche proprio per questioni di cultura, di appassione, diciamo, appassione per la tecnologia in generale. Per quanto invece riguarda i radiomatori in Europa, beh, la Germania è quello che ne conta di più in assoluto. Sono oltre 70.000. E noi in Italia più o meno si stima che siamo all'incirca 40.000. Più o meno questo è il dato che si suppone. Poi, come vi dicevo, noi facciamo parte dell'associazione più grande del nostro paese, che si chiama appunto ARI, Associazione di Radiomatori Italiani. È strutturata attraverso comitati regionali, più o meno ce ne sono uno per ogni regione. L'unica eccezione fa Piemonte e Valle d'Aosta, che è un unico comitato. E in più poi i comitati regionali sono a capo, diciamo così, delle sezioni locali. Quindi più o meno ogni capoluogo di provincia oppure ogni città, ogni grossa città, giusto per darvi delle indicazioni di massima, sostanzialmente. La nostra associazione è un'associazione che è definita ente morale. Come vi dicevo, raggruppa il maggior numero di radiomatori in Italia e quello che fondamentalmente fa è promuovere la cultura del radiantismo, che è un'attività di istruzione, personale, ovviamente, di ricerca, di sperimentazione, soprattutto affratella e unisce i popoli in nazione. Al di là di ogni barriera linguistica e di religione. Infatti, penso che forse i radiomatori siano tra, diciamo così, il servizio più internazionalmente riconosciuto come essere quello di maggiore fratellanza possibile, immaginabile. Non si parla di politica, non si parla di religione, si rispetta sempre l'opinione di chiunque. Ok? E soprattutto poi vedrete nel corso delle varie lezioni che noi parliamo attraverso un codice standardizzato. Ok? Quindi, dando una determinata sequenza di caratteri, ognuno può capire cosa significa quel messaggio che sto cercando di codificare. Ok? Quindi si supera abbondantemente il fatto che io magari sia italiano e parlo solo italiano, e magari dall'altra parte mi trovo a fare un collegamento radio con un giapponese che ovviamente non conosce la mia lingua. Però abbiamo un linguaggio comune. Soprattutto l'ARI è importante in Italia perché è protagonista in quello che è il settore della protezione civile. Noi abbiamo anche delle convenzioni in essere con il Ministero dell'Interno, con il Dipartimento di Protezione Civile, e facciamo quello che mensilmente viene chiamata prova di sintonia dalle prefetture, in modo tale da controllare che le apparecchiature radio dalle prefetture funzionino regolarmente. E in caso di necessità, appunto, il radiomatore Deplari può andare in prefettura e dare una mano per quelle che sono le comunicazioni radio, e quindi sostanzialmente anche intervenire sul luogo di eventuali disastri o di necessità in generale. E non solo, ovviamente essendo un'attività di istruzione, abbiamo anche, diciamo così, delle convenzioni dei protocolli di intesa con il Ministero dell'Istruzione, o di quello come adesso si chiama, ovviamente poi con ogni ordine e grado della pubblica amministrazione, quindi dalle regioni fino addirittura a comuni, è così di questo tipo. L'Ari poi fa parte di una ulteriore organizzazione di tipo mondiale, che raccoglie tutte le principali associazioni di ogni singolo paese. Questa associazione internazionale si chiama IARU, che è la International Amateur Radio Union. Ok? E la IARU ammette sempre solo un rappresentante per paese, quindi per nazione, e per l'Italia appunto l'Ari è il rappresentante dei radioamatori italiani presso la IARU. Come vedete la IARU è composta da 160 rappresentanti, quindi da 160 nazioni rappresentate. Andiamo a vedere un pochino nel dettaglio adesso cosa fanno i radioamatori, perché ovviamente voi siete interessati a questo corso per questo motivo. Partiamo dalla definizione. Abbiamo voluto scegliere proprio la definizione che la legge mette a nostra disposizione. Cioè la nostra attività non è fondamentalmente sregolata, diciamo così. Non è che possiamo fare quello che vogliamo. Noi dobbiamo essere sempre in qualche maniera rispettosi di quello che dice la legge. Esattamente come quando guidiamo la macchina dobbiamo fare riferimento al codice della strada. Stessa cosa, noi siamo radioamatori e dobbiamo fare riferimento a un codice che è il nostro faro di riferimento, che si chiama appunto codice delle comunicazioni elettroniche. E all'articolo 134 il codice dà la definizione del radioamatore è l'espletamento di un servizio come appunto dicevo anche prima un servizio di istruzione individuale di intercomunicazione e di studio tecnico che si deve svolgere in un linguaggio chiaro o eventualmente anche con l'uso di codici internazionalmente ammessi. Quindi non potete inventarvi un codice segreto tra di voi perché la vostra comunicazione deve essere sempre compresa da altre persone. Vedrete nel corso delle lezioni successive soprattutto quelle di normativa quali sono questi codici internazionalmente ammessi. Ovviamente la comunicazione deve avvenire esclusivamente sul mezzo radioelettrico e soprattutto deve avvenire tra radiomatori autorizzati all'interno della propria nazione ma ovviamente anche di nazioni estere. Il tutto deve essere a valenza esclusivamente personale e non deve esserci alcun fine di lucro. Vedete una definizione proprio semplice lineare e molto chiara. A lato pratico poi il radiomatore significa tante cose e lo vedrete nel corso delle diapositive successive. Prima vi dicevo appunto che deve fare uso di frequenze radioelettriche. Voi immagino sappiate che in natura esiste quello che è definito lo spettro elettromagnetico cioè non tutte quante le frequenze sono identiche tra di loro e ve ne rendete conto per esempio perché accendendo la radio potete sentire un determinato servizio accendendo la televisione potrete vedere un altro determinato servizio e così via. Utilizzando il vostro telefonino cellulare state utilizzando un altro servizio. Ognuno di essi utilizza un certo gruppo di frequenze diciamo spettro di frequenze ben specifiche. Stessa cosa succede per i radiomatori e dove vedete questi asterischi rossi in realtà si intercalano quelle che sono le frequenze per le quali noi siamo autorizzati a trasmettere. Quindi si va diciamo così da una gamma di solito si dice è 0 Hz corrente continua perché in questo caso appunto non c'è una oscillazione una variazione del tempo insomma di quelle che sono le proprietà del segnale elettrico fino a fino praticamente poi a GHz cioè 5G 6G 10G 20G e così via ok fondamentalmente le nostre frequenze principali sono raggruppate nell'ambito di all'incirca 1200 MHz quindi 1 GHz e 200 MHz ok e come vedete si intercalano tra servizi altri servizi a scopo civile per esempio non lo so comunicazioni di imbarcazioni oppure comunicazioni dovute ai alle torri di controllo con gli aeroporti internazionali o comunque con gli aerei le stazioni radiofoniche internazionali quelle che vengono definite broadcasting o servizi anche di polizia o di vigili del fuoco quindi diciamo così nella nella banda dei 70 MHz e come vedete poi questa per esempio è una banda di frequenza piuttosto famosa perché appunto sono quelle che noi definiamo le radio commerciali che vanno dagli 88 ai 108 MHz poi tra i 118 e i 136 vedete ci sono le comunicazioni aeree per esempio la comunicazione tra troni di controllo e l'aereo che sta per atterrare oppure decollare da un aeroporto specifico e vedete che le nostre frequenze più o meno si intercalano tra questi determinati servizi ok quindi noi siamo utilizzati a siamo autorizzati a utilizzare determinate frequenze all'interno di questo spettro questo è soltanto una piccolissima rappresentazione vi ripeto lo spettro è molto grande molto largo e c'è addirittura ancora una volta la legge che definisce quali sono le nostre frequenze a disposizione e c'è addirittura proprio un piano nazionale si chiama piano nazionale di ripartizione delle frequenze in modo tale che ognuno possa avere diciamo così il proprio servizio a disposizione senza creare interferenza con l'altro vi dicevo prima che è fondamentale imparare studiare questo sempre non si smetterà mai voi oggi cominciate un percorso e lo completerete quando veramente spero mai però quando smetterete o sarete veramente stufi di essere radiomatori il che io veramente auguro che non accadrà veramente mai perché come vi dicevo prima c'è sempre una nuova tecnologia che esce fuori c'è sempre qualche cosa di nuovo da imparare vedrete che il mondo radiomatoriale è veramente vasto ovviamente ci sono libri in italiano molto più spesso ci sono libri in inglese la fanno sempre loro da padrona da questo punto di vista e sono disponibili per una pletora di materie si va dalle radio a valvole quindi in qualcosa di un po' più antico fino ad arrivare anche a progetti con le nuove tecnologie come l'interfacciamento con le schede di Arduino o Raspberry o così di questo tipo oppure si va per le costruzioni di antenne o di quelle che sono le attività importative cioè portarvi la radio portare la radio fuori da casa per andare a fare non lo so scalati in montagna passeggiati o così di questo tipo ok fino ovviamente anche a quelle che sono le tecniche operative nel caso di radiocomunicazioni in emergenza cominciamo a vedere qualcuno di questi aspetti e partiamo da quello che diciamo l'aspetto tradizionale dell'essere radioamatore cioè quello di utilizzare le onde corte per fare i collegamenti a lunga distanza quelli che in gergo vengono chiamati DX ok e sono collegamenti appunto con altri radiomatori che si trovano in luoghi lontani o addirittura rari per raro significa che è veramente difficile fare dei collegamenti radio con persone di quel posto ok probabilmente perché c'è solo un radiomatore disponibile o addirittura non ce ne sono ed è necessario che ci sia qualcuno che parta da un posto per andare lì a fare appunto delle comunicazioni radio questo lo vedremo poi nella diapositiva successiva quando si fa poi una comunicazione radio scoprirete che è necessario essere in possesso di almeno tre diciamo blocchi fondamentali che sono l'antenna con la sua linea con il suo cavo qualsiale quindi la sua linea di trasmissione la radio stessa e un'alimentazione ma tra tutti questi tre blocchi chi fa veramente il collegamento radio è l'antenna e non solo io ho messo anche tra parentesi l'altezza perché ovviamente la posizione dove viene posta l'antenna è soprattutto quella che fa la differenza ok l'antenna è sicuramente l'elemento più importante della vostra stazione poi dove la metterete ancora di più ovviamente più l'antenna sta in alto più non ha come dire vincoli nei suoi lintorni migliore sarà anche il rendimento e soddisfazione che vi farà dare queste sono per esempio delle installazioni che riguardano la nostra sezione aridi di Modena la loro vecchia sede ok quindi potete vedere che insomma le antenne non sono proprio di piccolissime dimensioni ecco come non lo so della portata della dimensione di un telefonino o cose di questo tipo insomma possono essere anche particolarmente ingombranti possono essere anche particolarmente alte come potete vedere poi ovviamente la dimensione dell'antenna è direttamente proporzionale a quella che è la frequenza di utilizzo dell'attività radiomotoriale questo poi lo scoprirete anche nel corso delle lezioni successive scoprirete proprio l'aspetto tecnico che sta dietro a questo quando prima vi parlavo di collegamenti lontani o collegamenti remoti ok molto spesso sono organizzate quelle che sono definite di expedition cioè spedizioni verso luoghi remoti dove per esempio non esistono radiomatori però si vuole fare un collegamento da quel posto sembra un meccanismo abbastanza strano detta così ok però dovete sapere che appunto dietro questo collegamento poi in realtà ci sta un oggetto molto fondamentale ok che vi riscriverò nella diapositiva successiva e per come vi dicevo prima per nazione rara o per entità per meglio dire rara si definisce appunto un posto lontano lontanissimo dove addirittura non ci sono radiomatori e uno di questi esempi per esempio è l'isola di bouvet island come potete vedere è un'isola che si trova praticamente al centro di questo triangolo tra il sud america il sud africa e l'antartide un'isola completamente sperduta nell'oceano ok e proprio in questi giorni è partita una nave in direzione di questo di questa isoletta e ovviamente condizioni meteorologiche che dire pessime è veramente poco ok è sempre avvolta da una coltre di nebbia c'è sempre freddo ovviamente sempre ghiacciato sempre neve sapete quanti anni sono che si tenta di fare uno sbarco su questa isola sono all'incirca una decina di anni che si sta tentando e ogni anno si va sempre a tentativi a tentativi forse questa potrebbe essere la volta buona come potete vedere Buve Island è la seconda entità più ricercata al mondo dai radioamatori proprio perché i collegamenti radio da questo posto remoto sulla terra sono stati fatti veramente in quantità misera o minima l'entità più ricercata in assoluto è la Corea del Nord ma semplicemente per una questione politica voi sapete che la Corea è fondamentalmente una nazione completamente isolata dal resto delle altre e l'attività radioamatoriale purtroppo da lì non è consentita quindi vuol dire che nel corso della storia non ci sono stati collegamenti radio fatti da quella nazione ecco perché risulta essere alla cima di questa lista delle entità più ricercate quello che vi dicevo un attimo fa cioè qual è il motivo cos'è che spinge fondamentalmente a fare collegamenti radio così distante organizzare diciamo spedizioni così costose anche il motivo fondamentale è esattamente questa quella di ricevere quella che è definita una cartolina di conferma o in gergo tecnico QSL è un acronimo è un codice che sta proprio a indicare cartolina di conferma e questo rappresenta la prova dell'avvenuto collegamento tra due stazioni radio ci sono le cartoline classiche diciamo così convenzionali cartacee che vengono spedite per posto ordinaria ma più spesso vengono spedite attraverso l'organizzazione l'associazione afferente alle quali si afferisce oppure adesso si stanno anche diciamo stanno anche prendendo piede quelle che sono le forme di cartoline elettroniche perché sono sicuramente più immediate più sicure anche dal punto di vista della ricezione e non bisogna attendere troppo tempo per riceverle ovviamente c'è chi piace anche fare questo tipo di raccolta o di collezione di modo tale da avere diciamo così una classifica ed infatti esistono tra i migliori radioamatori al mondo che sono riusciti a confermare quanti più entità disponibili ovviamente poi tutte queste cartoline vengono raccolte perché appunto sono la prova e la dimostrazione di avvenuti collegamenti radio e quindi il radioamatore è magari anche interessato a partecipare a qualche tipo di competizione o diciamo così caccia di quelli che vengono definiti appunto diplomi ok il diploma può essere dovuto al fatto di aver collegato non lo so un certo numero di nazioni oppure aver collegato i continenti tutti i continenti del mondo oppure aver collegato tutti quanti gli stati degli stati uniti dell'america e cose di questo tipo ok non lo so per l'Italia per esempio esiste questo che è definito il VIPE che è aver collegato tutte quante le province italiane quindi a seconda del numero di collegamenti raccolti ovviamente poi si può avere un certo numero di diplomi da collezionare poi c'è anche l'aspetto competitivo dell'attività radioamatoriale e sportivo per meglio dire ok quindi praticamente quasi ogni fine settimana si può dire e vengono organizzati quelli che sono definiti contest quindi gare ok consistono sostanzialmente nel fatto di compiere il maggior numero di collegamenti radio in un determinato lasso di tempo solitamente si va dalle 24 alle 48 ore continuative ok quindi di solito ci si organizza in gruppi si fanno ovviamente i turni la stazione radioamatoriale è sempre attiva in tutto l'arco temporale dell'attività del contest quindi più collegamenti radio si fanno più probabilità si ha di arrivare primi in classifica e nei contest principali appunto si possono avere anche più di 4 mila radioamatori da tutto il mondo soprattutto per quelli organizzati dagli Stati Uniti d'America e sono quelli sicuramente più blasonati e qui riportiamo anche quello che è un evento che qui leggete nel 2022 ma in realtà avverrà quest'anno nel 2023 ovviamente per questioni di ristrettezze organizzative dovute al covid insomma che avevamo ancora nello scorso anno questo evento è stato rimandato quest'anno appunto si terrà quelle che sono definite le olimpiadi dei radioamatori e stiamo anche cercando di organizzare come comitato regionale appunto una visita nei giorni 7, 8 e 9 di luglio così di modo tale che voi possiate rendervi conto di dal vivo ok di come funziona una stazione radio e di quello che è appunto un'attività competitiva come questa ci stiamo organizzando in questo senso stiamo pianificando un'attività speriamo di riuscire a portarla a termine comunque poi nel corso delle lezioni successive vi daremo ulteriori dettagli per quanto riguarda anche questa attività poi ovviamente ci sta anche diciamo un aspetto un po' più serio tra virgolette ok sicuramente un po' più etico e meritevole e nobile per meglio dire diciamo così della nostra attività radioamatoriale cioè quello di mettere a disposizione il nostro tempo per aiutare il prossimo e quindi ci sono gruppi di radiomatori che si organizzano nelle sale radio delle prefetture o dei comuni o in generale diciamo così di quelle che sono le organizzazioni di protezione civile o che fanno parte del sistema di protezione civile per intervenire in caso di necessità quando per esempio le comunicazioni convenzionali vengono giù la linea elettrica viene giù ecco il radiomatore è appunto colui che è sempre in grado di attivare una stazione radio in qualsiasi condizione ok perché a noi bastano fondamentalmente una batteria una radio e un'antenna che ci possiamo costruire da noi storicamente i radiomatori sono noti sono ben noti meglio dire negli aspetti della protezione civile a partire dai primi casi diciamo così di terremoto del Friuli o anche degli alluvioni di Firenze anche più recentemente in quelli che sono stati diciamo terremoti dell'Emilia Romagna dell'Abruzzo e tutti quelli che sono stati diciamo gli eventi calamitosi del nostro paese quindi i radiomatori in questo specifico caso i radiomatori dell'Ari si organizzano in quelli che sono definiti gruppi di radiocomunicazione di emergenza e mettono a disposizione le loro competenze proprio per facilitare le comunicazioni in caso di necessità sperimentazione poi perdonatemi scusatemi sperimentazione poi ovviamente è la benzina diciamo così di ciascun radiomatore è quello che lo porta ad apprendere la tecnica quello che soprattutto poi mette in pratica ciò che ha studiato perché può cominciare a costruirsi un'antenna può cominciare a costruirsi un specifico circuito per far funzionare bene il suo apparato o insomma mettere a punto in maniera sofisticata poi quello che è la sua stazione radio e questi sono degli esempi che noi abbiamo tratto da un sito di un radiomatore famosissimo in Italia si chiama Ivo dell'Abruzzo ok abbiamo messo anche il link al suo al suo sito web perché vedrete che è veramente fornitissimo lui è un grandissimo sperimentatore e tutte le sue conoscenze le sue competenze le mette gratuitamente a disposizione di tutti in modo tale che possa costilare in qualche maniera a replicare quelli che sono anche i suoi progetti non è infrequente una cosa del genere anzi questo è quello che viene definito lo spirito radiomatoriale quello che l'inglese è definito ham spirit ok cioè quello di mettere sempre in condivisione la propria conoscenza agli altri questo è sempre stato fondamentale altre attività che riguardano o comunque collegate al mondo radiomatoriale ha a che fare anche con la stazione spaziale internazionale voi sapete che sulle nostre teste orbita una grande stazione di ricerca costruita fondamentalmente dall'America dall'Unione Europea dal Giappone dalla Russia che hanno diciamo così unito gli sforzi per costruire diciamo così un ambiente extraterrestre e che ruota attorno al nostro pianeta per attività di ricerca e forse non lo sapevate ma anche sulla stazione spaziale è presente più di una di una di una di una stazione radio fondamentalmente radio radiomatoriale ok e addirittura ci sono gli astronauti che nel momento in cui hanno la possibilità di avere del tempo libero diciamo così o comunque possono mettere a disposizione si mettono e fanno proprio collegamenti con i radiomatori stessi o addirittura vengono proprio organizzati degli eventi di collegamenti radio tra le scuole di tutto il mondo e gli astronauti ok c'è proprio un'organizzazione che si interessa di questo ok e noi in Italia abbiamo questa radioamatrice che vedete qui nell'immagine sulla sinistra che è una professoressa che appunto si dedica fondamentalmente a quello che è l'attività della stazione espassale internazionale anche lei è grande appassionata di questo aspetto di telecomunicazioni e organizza poi anche gli eventi gli eventi diciamo così di contatto con le scuole tra l'altro lei fa anche parte del consiglio direttivo dell'associazione nazionale ok e sempre rimanendo diciamo così nell'ambito dello spazio sono stati anche creati dei satelliti geostazionari in questo caso e a scopo sempre il radioamatoriale quindi si può puntare fondamentalmente una parabola su una determinata posizione diciamo così elevazione rispetto a terra trasmettere su una determinata frequenza che sono appunto queste che sono riportate qui in alto ok quindi a 2,4 gigahertz si trasmette e si riceve il segnale invece a 10 gigahertz quindi si riceve il segnale dal satellite stesso su quell'altra frequenza ecco questo è fondamentalmente un'attività che è stata resta disponibile da un paese diciamo così degli emirati arabi dal gruppo dei radioamatori degli emirati arabi che hanno messo così ovviamente contributo insomma in generale diciamo così non solo dei radioamatori ma anche poi delle organizzazioni nazionali diciamo così un satellite appunto allo scopo radioamatoriale questa rappresenta poi ancora un'altra attività radioamatoriale sempre in ambito spaziale cioè si sfrutta quello che è il potere riflettente della luna immaginate un po' come di puntare una torcia su uno specchio ok vedrete che la luce a un certo punto riflette ecco questo stesso identico principio può essere messo in pratica anche con la radiofrequenza ok quindi con quelle che sono diciamo le nostre frequenze ad uso radioamatoriale in pratica si puntano le antenne in direzione della luna il segnale radio viene concentrato viene diciamo così mirato in direzione della luna e la luna poi si comporta come specchio di modo tale che così un segnale che viene trasmesso per esempio dall'italia facciamo facciamo caso magari possa essere sentito da qualche altra parte del mondo sfruttando questo fenomeno di riflessione collogamento che altrimenti su questa determinata frequenza non potrebbe normalmente avvenire perché fisicamente è impossibile una cosa del genere ecco questo per esempio è un'altra attività molto sofisticata come potete vedere anche molto complessa perché c'è bisogno di organizzare un sistema di antenne molto molto ampie e importanti come vedete poi qui abbiamo il nostro bravo Giovanni per esempio che si dedica a quelle che sono la caccia dalle radiosonde quando voi ricevete le notizie meteo del giorno è proprio grazie a questo dispositivo che Giovanni detiene in mano ok questi sono semplicemente dei trasmettitori ok all'interno poi hanno anche dei sensori che registrano quelli che sono appunto i dati meteo il sensore e il trasmettitore è legato a un pallone a un pallone quindi a un pallone aerostatico quindi viene fatto liberare a determinate ore della giornata il pallone sale su in cielo viene spinto dalle correnti e poi a un certo punto ovviamente scoppia e cade per naturale gravità ok e a questo punto non solo ha fatto il suo compito scientifico che è quello di raccogliere i dati e di trasmetterli a terra sempre sfruttando quelle che sono diciamo così e sfruttando quella che è la radiofrequenza ci sono proprio persone che poi a un certo punto vanno anche a caccia di questi dispositivi tanto sono a perdere fondamentalmente ok quindi piuttosto che diciamo andare così a inquinare il terreno si vanno a recuperare e li si riutilizzano per altri scopi anche semplicemente diciamo così per curiosità poi ovviamente ci sono un sacco di sistemi adesso come potete vedere da queste altre immagini che monitorano anche quindi rendono la traccia fondamentalmente di quello che è il percorso compiuto dalla dalla radiosonda perché ovviamente è dotato anche in un sistema gps e quindi istantaneamente trasmette anche quella che è la sua posizione e quindi la si può riportare su una mappa altro aspetto molto importante della telegrafia scusatemi del mondo radiomatoriale è la telegrafia e fondamentalmente direi che è stato forse il primo approccio comunicativo in assoluto dei radiomatori proprio perché storicamente ancora la diciamo le comunicazioni via voce non erano ancora definite ai tempi anche di di Marconi però era era sicuramente disponibile già il codice Morse quindi la trasmissione dei dati attraverso l'uso di punti e di linee fondamentalmente questo è il significato di telegrafia attraverso la combinazione di punti e di linee si rappresenta una determinata lettera dell'alfabeto e la loro combinazione ovviamente poi da frasi di senso compiuto e fondamentalmente si tratta di sforzare il cervello ad abituarsi a capire un suono ok a capire una musica fondamentalmente e ci vuole tanto esercizio ovviamente non è richiesto a livello di superamento dell'esame almeno non più da una ventina di anni prima era un passaggio obbligatorio per diventare radiomatori ma più o meno all'inizio degli anni 2000 appunto con l'introduzione del nuovo codice delle comunicazioni elettroniche grosso modo l'esame di telegrafia è stato abolito quindi ora ci si presenta all'esame soltanto portando la teoria fondamentalmente e gli aspetti li vedremo tra qualche istante altra attività che sta prendendo molto voga negli ultimi decenni è quella di fare diciamo così associare il mondo della radio a quella che è un'attività un po' più personale un po' più fisica come per esempio scalare le montagne e questo ha anche a che fare con quello che vi dicevo prima cioè l'antenna ma soprattutto l'altezza dell'antenna è fondamentale in un collegamento radio quindi più in alto siete più probabilità avete di raggiungere un posto ok perché è una questione fisica fondamentalmente ok si allunga quello che è chiamato l'orizzonte ottico e ovviamente poi ci sono un sacco di tecniche di miglioramenti di studio perché ovviamente non potete pensare di portarvi dietro un'antenna di 100 metri quadri sulle spalle scalando una montagna questo è il senso quindi c'è molta attività di sperimentazione c'è molta attività di prova ok mettersi lì a costruire il miglior sistema d'antenna che sia efficiente ma allo stesso tempo compatto e leggero e soprattutto poi come vedete le radio si miniaturizzano in maniera estrema volete vedere che addirittura rientra sul palmo di una mano ok normalmente invece le radio che noi radiomatori utilizziamo da casa sono mastodonti che si può dire senza senza grossi problemi ok quindi tutto ci sono tutti accorgimenti ovviamente per ridurre il peso ma ottimizzare massimizzare quella che è l'esperienza radiomatoriale e questa è un'attività appunto che ricordo anche qualcuno di voi è appassionato di di alpinismo diciamo così o comunque trekking in generale ok e ricordo vedo sì una manina una manina alzata di Paolo e questo per esempio potrebbe essere anche una ragione per cui diventare per esempio radiomatori un'altra attività è quella di contattare altri radiomatori sfruttando quelli che sono delle stazioni particolari stazioni che vengono definite ponti radio esattamente come un ponte unisce diciamo due regioni all'interno di una stessa città o comunque all'interno di due aree geografiche in generale la stessa cosa fanno queste particolari stazioni radio permettono le comunicazioni tra due radiomatori che normalmente non potrebbe avvenire questi questi ponti radio sono normalmente dislocati in posizioni strategiche normalmente sono in altura proprio perché così si sfrutta ancora una volta quello che è il vantaggio dell'altezza quello che è appunto l'aumento della portata ottica e soprattutto poi facilita per esempio il collegamento tra una versante e l'altro della della montagna stessa quindi non lo so potete immaginare che grazie a un ponte radio presente non lo so sulle sull'appennino tosco emiliano permette la comunicazione tra un veneto e un toscano per esempio cosa che normalmente non potrebbe avvenire proprio a causa della presenza della catena montuosa ok questo che vedete qui rappresentato è fondamentalmente la rete dei ponti radio che noi del comitato regionale quindi attraverso le varie sezioni e responsabili dei ponti radio delle varie sezioni siamo riusciti in qualche maniera a creare all'interno della nostra regione dell'Emilia Romagna quindi siamo in grado fondamentalmente di mettere in comunicazione dei radiomatori che vanno da Piacenza fino a fino a Rimini ok ognuno utilizzando un determinato ponte radio quando si attiva quel ponte radio in realtà li mette tutti quanti in comunicazione tra di loro e così un radiomatore di Piacenza può parlare tranquillamente per esempio con un radiomatore di Rimini ovviamente poi queste sono soltanto queste immagini verdi che vedete rappresentano quelle che sono delle coperture del segnale radio ok quindi il campo ok per fare un paragone con i telefoni cellulari e ovviamente queste coperture possono essere varie dipendono appunto dalla posizione del ponte radio dalla sua altezza e cose di questo tipo questo è per esempio l'attività che una delle attività che a me piace fare tant'è vero che poi ho deciso anche di creare un'applicazione che mappa quelli che sono i ponti radio in modo tale da facilitare anche la loro determinazione ovviamente adesso siamo nel 2023 e ovviamente dobbiamo stare anche al passo con i tempi e esiste internet e questo significa che dobbiamo essere in grado di collegare anche le rosse radio a quello che è il potere di internet e di fatti sono nati quelli che sono definiti i modi digitali di trasmissione il modi digitale perché fa in opposizione diciamo così a quello che è definito in modo analogico cioè il modo convenzionale di fare radio voi installate fondamentalmente un'antenna un alimentatore una radio collegate tutte le tre cose e partite con le vostre trasmissioni di norma questo è il modo analogico in modo digitale significa che la trasmissione viene eseguita anche grazie attraverso il collegamento internet quindi il segnale viene preso da un sistema che normalmente è ancora una volta un ponte radio però vi permette non solo di fare un collegamento radio diciamo così a livello regionale come avete visto prima ma sfruttando la rete internet potenzialmente voi potreste raggiungere qualsiasi parte del mondo un po' come se diventasse una specie di mettiamo sotto questo aspetto tra virgolette telefonata radio amatoriale ok e ci sono questi protocolli dalle sigle un po' così strane in questo momento come dmr distar c4fm aprs col tempo vedrete e capirete cosa significano fondamentalmente questo è il discorso è una stazione radio collegata a un nodo internet di modo tale da espandere a livello mondiale quello che è il vostro potere di fare comunicazione quindi non solo a livello diciamo così locale e dopo questa lunghissima carrellata diciamo così di attività ma voglio dire sono soltanto delle rappresentazioni e quelle più diciamo importanti poi ovviamente ce ne sono tantissime altre ma ovviamente per questioni di tempo non possiamo andare troppo nei dettagli beh i radiomatori come vedete non è che sono diciamo così dei personaggi di tutti i giorni qui sono rappresentati i capi di stato sono rappresentati i monarchi personaggi famosi uomini e donne dello spettacolo addirittura anche ingegneri fondatori di compagnie e cose del genere l'interesse come vedete è veramente ma veramente trasversale va oltre quello che la propria cultura in generale ok quindi non è che essere radiomatore è di un determinato popolo o essere radiomatore è soltanto per una determinata formazione ok radiomatore lo può essere chiunque chiunque ha il piacere di studiare chiunque ha il piacere soprattutto di comunicare perché fondamentalmente questo fa un radiomatore comunicare io adesso non voglio andare troppo nei dettagli però insomma vedete qui da questo elenco per esempio Francesco Cossiga era in Italia uno dei radiomatori più famosi lui è stato più volte ministro della Repubblica ma poi ovviamente anche capo presidente della Repubblica italiana insomma allora fatta questa lunghissima carrellata di attività e insomma di curiosità attorno al mondo radiomatoriale andiamo adesso a vedere come si diventa radiomatori e cosa serve soprattutto per diventare un radiomatore allora la prima cosa fondamentale è ottenere questo foglio rosa che vedete qui che è definita patente di radiomatore patente di operatore di stazione di radiomatore per la precisione così lo definisce lo Stato italiano voi otterrete questa patente solo e soltanto superando un esame ministeriale ecco il motivo e lo scopo di questo corso noi vogliamo mettervi nelle condizioni di superare quell'esame noi vi daremo supporto ovviamente il gruppo di formazione vi darà tutto il materiale ma vi spiegherà passo per passo cosa c'è da sapere per superare l'esame ministeriale di modo tale che voi arriverete a giugno o a novembre a seconda diciamo così dell'organizzazione dell'ispettorato territoriale di competenza andrete lì all'esame e vogliamo che lo superiate in maniera brillante ok quindi questo è il prerequisito questo è il fondamento di tutta la vostra lo scopo di tutto questo corso la patente come vedete è rilasciata dal ministero adesso si chiama ministero delle imprese del Made in Italy come il nuovo governo ha cambiato denominazione fino a pochi mesi fa fino a tre mesi fa si chiama ministero dello sviluppo economico ok però gli ispettorati territoriali fanno comunque sempre capo a questo ministero gli ispettorati territoriali sono fondamentalmente gli uffici governativi sul territorio regionale ok dove poi voi andrete a sostenere l'esame in Emilia Romagna rispetto al lato territoriale si trova a Bologna fondamentalmente nelle altre regioni più o meno si trova sempre nel capoluogo di regione ma non è sempre così per esempio in Calabria si trova in Reggio Calabria eppure il capoluogo di regione Catanzaro questa diapositiva che abbiamo pensato dà un messaggio molto forte cioè ovviamente lo scopo nostro e vostro per questo corso è quello di arrivare a ottenere la patente di radiomatore e quei non ci sono dubbi ma serve solo e soltanto la patente per diventare davvero radiomatori questa è la nostra domanda un po' provocatoria mettiamolo sotto questo aspetto la risposta è quello è soltanto il punto di inizio come vi dicevo ok radiomatori si diventa non è diciamo un titolo che noi abbiamo così scelto per caso è la realtà è la realtà dei fatti radiomatori si diventa col tempo ok si diventa soprattutto frequentando altri radiomatori perché come vi dicevo prima c'è sempre necessità di imparare dagli altri e meglio di un altro radiomatore non ci può essere ok soprattutto vedrete che quando entrerete in contatto con altri radiomatori ok comincerete a fare pratica con loro a organizzare eventi a mettervi insieme per fare qualche cosa e quello sarà poi un volano un catalizzatore per andare avanti e come vi dicevo anche prima dovrete sempre continuare a studiare e sperimentare se la passione vi prende ok vedrete che non smetterete mai più e avrete sempre fame di imparare qualche cosa di lungo per quanto riguarda l'esame dello specifico ok e vi dicevo prima questo dipende un po' da ispettorato territoriale a ispettorato territoriale normalmente normalmente l'esame adesso viene svolta una sola volta l'anno e di norma nel periodo che va tra ottobre e dicembre però sappiamo che ci sono dei casi in cui l'esame viene mantenuto invece nella sessione originaria che era quella di giugno ok quindi di volta in volta dovremmo in qualche maniera individuare o comunque dovete stare attenti a quello che è il periodo migliore per sostenere l'esame però di norma la sessione d'esame avviene una sola volta l'anno viene fatto adesso viene fatto in presenza e in casi eccezionali si può anche eventualmente organizzare tramite web ma questo deve essere fatto ovviamente in come dire organizzato diciamo così con l'ispettoriato territoriale e soprattutto con il loro consenso e adesso consiste in un esame orale fino a qualche anno disponibile l'esame sotto forma di quiz un po' come quelli della patente quindi venivano date un certo numero di domande erano 60 a risposta multipla voi dovevate con una crocetta scegliere la risposta giusta e si superava l'esame con 36 risposte corrette su 60 adesso purtroppo con 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 gli eventi dovuti al covid l'esame si è dovuto trasformare in qualche maniera e quindi non era più possibile fare in presenza e si è dovuto andare diciamo così attraverso sessioni d'esami in remoto e si è scelto quindi di modificare anche quello che lo svolgimento dell'esame quindi da quiz ora si fa un esame orale vi vengono proposte al massimo 5 domande ok ci sono poi dei casi e soprattutto l'esame quindi la prova si supera quando date tre risposte esatte su 5 ok e ci sono dei casi di esonero cioè qualcuno di voi magari ha studiato da aperito elettrotecnico da aperito elettronico ha una laurea in ingegneria o comunque qualche altra laurea di tipo di radiotelegrafista di bordo come potete vedere da questa diapositiva ok tutti questi titoli rilasciati da ovviamente un istituto statale vi permettono di avere quello che è definito l'essonero parziale dall'esame ministeriale cioè dovete presentarvi al ministero soltanto per sostenere l'esame relativo alla normativa tutto quello che riguarda la parte radiotecnica vi viene tra virgolette abbonata proprio per la vostra formazione ok per la vostra educazione che avete ricevuto quindi se vi trovate in questa situazione comunque poi ne parleremo in maggior dettaglio la settimana prossima lunedì prossimo fatecelo sapere perché in questa maniera ovviamente si semplifica anche quello che è la partecipazione al vostro corso ok quindi questo è semplicemente sì certo prego sì prego sì eccomi scusatemi se vi ho interrotto per quanto riguarda il diploma di tecnica in elettronica o equipollente conseguito presso l'istituto statale riconosciuto dello stato questa normativa attualmente scritta su questa diapositiva è quella aggiornata da marzo in poi o è quella vecchia no la normativa cioè questo dovrebbe essere quella dell'ultima diciamo così della normativa attualmente in vigore ok al 2000 avvenire Claudio mi confermi certo certo è l'ultima è l'ultima da tre anni ok va bene grazie scusate per l'interruzione figurati Gianluca nessun problema grazie mille quindi se vi trovate in questa condizione voi fondamentalmente potete ottenere quello che è definito l'esonero parziale non è necessario studiare la parte di radiotecnica di elettronica di elettrotecnica perché queste competenze si suppone le abbiate già a questo punto vi presenterete all'ispettorato e sostenete soltanto la parte d'esame relativa a quella che è la normativa che adesso è diventata obbligatoria quindi questa parte la dovrete almeno sapere e ritornando diciamo così alla diapositiva precedente scusatemi ok se vi trovate nella condizione di esone o parziale il numero delle domande che vi verranno sottoposte sono 3 invece di 5 e dovrete rispondere a due domande ok in maniera affermativa per superare l'esame ok e dunque questi sono fondamentalmente i passaggi che dovrete compiere da oggi fino a poter arrivare a trasmettere diciamo così con la vostra radio ovviamente e questa sera cominciamo da questo blocco verde cioè quello che è il corso di preparazione all'esame ok e poi si arriverà nel periodo di ottobre dicembre di quest'anno a sostenere l'esame ministeriale ve lo auguro di tutto cuore veramente di superare questo esame da questo momento voi siete radioamatori patentati da qui comincia quella che è l'altra fila sostanzialmente burocratica per arrivare a installare una stazione radio verso la posta abitazione per esempio ok una volta che avete ottenuto la patente il passaggio successivo è quello di richiedere il nominativo cioè l'identificativo univoco internazionale prima vi ho detto per esempio il mio che IZ3WNH significa che in tutto il mondo non c'è nessun altro che si chiama come me ok questo nominativo viene rilasciato appunto da dallo stato italiano quindi da un ente ufficiale stessa cosa avviene per tutti i radiomatori nel resto del mondo ok ci sono delle logiche per assegnare i nominativi e anche questo per esempio è argomento di esame e sarà anche argomento ovviamente del nostro corso una volta che avete ottenuto il nominativo ministeriale l'ulteriore passaggio successivo è quello di ottenere quello che una volta era un pezzo di carta e che adesso invece non viene più rilasciato ma si chiama autorizzazione generale c'è un documento che attesta il fatto che voi siete autorizzati a trasmettere sulle frequenze radioamatoriali una volta che ottenete questo documento o comunque questa autorizzazione in generale potete iniziare a trasmettere con la vostra radio senza alcun tipo di problema come vedete riportato qua sotto la legge stabilisce anche quando si può diventare radioamatori non è che voglio dire chiunque lo può diventare a qualsiasi ovviamente momento della vita o diciamo condizioni in generale come vedete deve avere almeno la cittadinanza di uno dei paesi dell'Unione Europea ovviamente noi stiamo parlando per l'Italia ok deve deve avere almeno 16 anni di età la patente si può prendere anche prima o meglio l'utilizzazione si può avere a partire dai 16 anni di età ok la patente magari l'esame per la patente si può ottenere anche prima volendo ci sono anche casi di bambini che hanno che hanno superato l'esame è successo insomma ok però ovviamente la legge dice che finché non si è compiuto 16 anni non si può in sera trasmettere ovviamente dovete essere in possesso della patente del nominativo e dell'autorizzazione generale in tutto e soprattutto poi non dovete aver riportato delle condanne penali fondamentalmente come descritto qui non vado troppo nei dettagli ok fondamentalmente non dovete aver subito delle condanne penali e non dovete essere ancora sottoposti alle misure di restrizione dovuta alla vostra condanna ultimo aspetto fondamentale come potete vedere anche dai simbolini ovviamente ognuno di questi passaggi ha anche un costo e un costo che dipende fondamentalmente da quelli che sono le pratiche burocratiche che dovete generare ok quindi per richiedere l'iscrizione all'esame ministeriale dovete fare dei versamenti dovete pagare delle marche da bollo stessa identica cosa per fare la richiesta di un nominativo e per l'autorizzazione generale ok i costi sono fissi sono uguali per tutti ok lo vedrete poi nella diapositiva successiva e per quanto invece riguarda quello che sono le scadenze rispetto a quello che state per affrontare ok con questo corso e di solito appunto ci sentiamo dire quando è che scade la patente oppure quando è che scade il nominativo e cose di questo tipo ok bene noi con questa semplicissima diapositiva vi risolviamo subito ogni dubbio ok una volta che avete ottenuta una volta che avete ottenuto la patente questa sarà per sempre ok la sua validità non ha termine non dovrà mai essere rinnovata la patente ok cosa diversa invece è il nominativo e in particolar modo l'autorizzazione perché le due cose vanno di pari passo ok l'autorizzazione è sempre associata a un nominativo quindi se fate un'autorizzazione vale 10 anni di norma ok quindi dal momento in cui voi sottomettete la domanda per la richiesta di autorizzazione lo Stato vi concederà un'autorizzazione della durata massima di 10 anni alla scadere di questi 10 anni poi dovete fare il rinnovo di quell'autorizzazione se volete continuare ovviamente a operare come radioamatore ok se voi non rinnovate a quel punto correte il rischio poi di perdere anche il vostro nominativo ok ecco perché di norma si dice che il nominativo vale 10 anni perché ovviamente dipende sempre dal fatto che voi rinnovate rinnoviate o meno l'autorizzazione generale quel che c'è da pagare poi annualmente è una tassa ok quella che formalmente definiamo tassa di concessione governativa ok giusto per per darvi un'idea come vedete di un valore molto modesto è di 5 euro all'anno almeno per il momento ci sono diciamo così come dire movimenti da parte del ministero affinché questo valore possa leggermente aumentare nel prossimo futuro però ora come ora è questo valore 5 euro ok quindi di anni in anno per i successivi 10 ok dovrete sempre fare questo versamento e questo versamento questo scusate di versamento viene eseguito dal primo gennaio dell'anno in corso e avete tempo fino al 31 dicembre per farlo se andate oltre il 31 scusatemi 31 gennaio volevo dire se andate oltre il 31 gennaio poi ovviamente come il canone della RAI per esempio ok c'è da pagare una modesta sovrattassa fondamentalmente ok quindi ricordatevi che la scadenza diciamo così per il rinnovo dell'autorizzazione generale annuale è esattamente come la scadenza del rinnovo del canone della RAI quindi il 31 gennaio di ogni anno è nostro è nostra buona pratica ma soprattutto poi è richiesto dagli ispettorati territoriali quello di conservare le ricevute dei pagamenti che voi effettuate di anno in anno perché nel momento in cui farete il rinnovo dell'autorizzazione generale ovviamente l'ispettorato territoriale vuole avere la prova cartacea ok dei vostri pagamenti e quindi tenete sempre da parte quelle che sono state le ricevute mettetele in una cartella nel momento in cui farete il rinnovo dell'autorizzazione generale allegherete una copia di queste ricevute in modo tale da dimostrare che voi effettivamente avete sempre mantenuto questa autorizzazione invece per quanto riguarda il costo di una radio ok qui veramente possiamo cominciare a parlare da questo momento fino non lo so forse alla fine del corso fondamentalmente ok perché ci sono un sacco di condizioni che determinano il costo di una radio o comunque in generale di una stazione radio ok e quindi si parte per esempio dalle condizioni si può pensare di prendere una radio nuova o una radio usata si può pensare di andare sulla tipologia di radio si può prendere appunto un portatile quindi un walkie-talkie come vedete qui è rappresentato nell'immagine sottostante oppure quelle che sono definite delle radio veicolari oppure base cioè veicolare nel senso che si può montare per esempio in macchina perché prende l'alloggiamento dell'autoradio per esempio o di stazione base perché appunto viene posizionato sulla scrivania sul tavolo della vostra aria ok e di norma questo ha veramente una dimensione piuttosto grande e ovviamente poi dipende anche dall'utilizzo delle frequenze a seconda di quante frequenze mette a disposizione della radio ovviamente aumenta anche il costo e soprattutto poi anche dei circuiti che compongono la radio stessa ok perché ovviamente se un circuito è sofisticato è fatto bene e ricercato ovviamente anche quello contribuisce con il costo e poi ovviamente anche dalla produzione appunto potete andare ad acquistare una radio commerciale nel senso che viene venduto direttamente da dei produttori o se siete anche in grado e ve lo auguro veramente potete eventualmente anche costruirve le radio ok l'attività del radio matore fondamentalmente è questa deve essere un autocostruttore ok e come vi dicevo prima la radio è sempre costituita da tre parti fondamentalmente quindi il discorso che vi ho fatto finora era solo e soltanto relativa alla radio ok però poi dovrete anche pensare a come alimentare la radio e soprattutto come trasmettere il segnale radio e quindi parlare di alimentazione alimentatori in generale oppure di sistemi di antenna se poi l'antenna la volete montare sul palo su un traliccio o su quello che è ovviamente poi i costi li evitano sempre di più però diciamo se vogliamo andare sulla cosa più pratica più economica che c'è a disposizione una radio ora come ora la potete acquistare dai 50 euro in su appunto un walkie-talkie di questo tipo che vi permette di fare comunicazioni in radio per esempio attraverso i ponti radioamatoriali di cui vi parlavo prima allora detto questo avviamoci verso l'ultima parte della nostra presentazione che riguarda la struttura del corso e poi questo è soltanto diciamo una piccola anticipazione di quello che sarà poi l'argomento della lezione successiva che è dell'incontro successivo e qui lascerò adesso la parola anche ad alcuni dei formatori ok di modo tale che si presentino e soprattutto presentino quello che è il loro ambito diciamo così di formazione all'interno di questo corso però fondamentalmente vi dico questo il nostro corso si basa su quello che è il programma d'esame definito dal ministero cioè ancora una volta è la legge che dice qual è la preparazione minima per ottenere la patente di radioamatore ok trovate il programma d'esame sempre nella legge che vi ho indicato prima il codice delle comunicazioni elettroniche come allegato ok fondamentalmente il programma si compone di quattro parti si va dalla elettrotecnica dove praticamente si studiano i principi base della fisica quelle che sono le componentistiche diciamo basilari di tutti i circuiti si passa poi per l'elettronica nel quale si combinano tra di loro i componenti elettronici per far dei circuiti ben specifici quindi delle funzioni ben specifiche si procede poi con la radiotecnica che sono appunto le parti fondamentali e funzionali della radio e delle antenne e appunto si conclude poi con la parte di normativa cioè noi faremo riferimento a quelle che sono ovviamente le leggi nazionali perché noi fondamentalmente prima di tutto siamo legati a quelle ma ci sono anche leggi internazionali che dobbiamo rispettare soprattutto se poi siamo abituati a spostarci e vogliamo portare con noi la radio ok di montare da fare collegamenti che lo so dalla Francia dagli Stati Uniti dal Giappone dovunque ci troviamo oltre ai regolamenti e alle leggi ci sono poi quelle che noi definiamo le norme di comportamento e le convenzioni ok quindi per esempio il codice di cui vi parlavo prima il codice che è definito codice Q io adesso lascerei la parola a Marco per questa parte ok Marco sei in linea sì ci sono perfetto Marco i Z4 ISK e io mi occuperò assieme a altri colleghi della prima parte diciamo elettronica ed elettrotecnica come diceva giustamente Andrea partiremo dall'inizio per cui di fatto dobbiamo iniziare a capire che cos'è l'elettricità e quello che vogliamo andare a fare in teoria sulla carta è abbastanza semplice dato un circuito dato una forma di alimentazione come potrebbe essere una pila che tutti conosciamo una batteria di fatto quello che si vuole fare se andiamo proprio in soldoni è far passare corrente all'interno di un circuito il modo in cui lo facciamo invece può essere vario può essere vario perché dipende da cosa c'è all'interno del nostro circuito e i componenti fondamentali che si possono trovare all'interno di un circuito non sono poi tantissimi ma ci sono alcuni mattoni fondamentali sicuramente ne avrete sentito parlare resistenze condensatori induttanze sono praticamente diciamo i tre elementi fondamentali a cui si aggiungono i generatori di tensione e il comportamento di questi componenti si cambia anche a seconda di come fluisce la corrente all'interno del circuito avrete sentito parlare della cosiddetta tensione corrente continua oppure una corrente alternata cioè una corrente che va si muove diciamo alternativamente in una direzione e in un'altra all'interno del circuito sembra una differenza tutto sommato minima in realtà vedremo che su alcuni componenti fa la differenza perché si instaureranno dei fenomeni particolari che andremo a studiare e che ci permettono di aumentare ulteriormente quelle che sono le possibilità diciamo di pilotare costruire un circuito elettronico perché faccia quello che vogliamo quindi qui vedete un po' riassunte le macrovoci inizieremo con la carica elettrica passeremo quelle che sono le correnti continue vedremo un po' di componenti corrente alternata elettrostatica elettromagnetismo e dopodiché passeremo appunto ai circuiti in corrente alternata vedremo che riusciremo a definire il concetto che sicuramente adesso avete anche solamente perché quando siete in auto e sintonizzate la radio su cosa lo fate lo fate su una specifica frequenza bene le frequenze nel campo radio sono un aspetto fondamentale e scopriremo che alcuni circuiti fatti in un certo modo riescono a selezionare in maniera naturale quelle che sono alcune frequenze e quindi riusciremo diciamo a catturare il segnale di nostro interesse vedremo un po' di trasduttori e di strumenti quindi strumenti di misura e i trasduttori che serviranno di fatto per trasformare la nostra voce in un segnale elettrico e viceversa come ad esempio fanno gli eltoparlati che trasformano un segnale elettrico in un'onda sonora poi infine vedremo quelli che sono invece state delle se vogliamo strutture un po' più complesse rispetto ai mattoni base in particolare i tubi a vuoto e poi tutto quello che è stato all'avvento i cosiddetti dispositivi a stato solido che sono la base se vogliamo dell'elettrotecnica moderna direi che questa è tutta la parte che vedrete con me e con i colleghi e dopodiché lasciamo il microfono direi più che la palla visto che sarà il radio amatore il microfono a Claudio mi fa piacere vedere così tante persone questa sera le due parti dopo diciamo sono all'inizio della della concretizzazione diciamo di tutto quello che si studia dei componenti elettronici con Marco e dove si cominciano a costruire i blocchi elementari diciamo per cominciare ad avere qualcosa che funzioni quindi si cominceranno a introdurre i circuiti che amplificano i segnali come viene la trasformazione dei segnali nel permettere che uno strumento che il segnale radio possa avere dentro un'impronta una una modulazione un qualcosa che va dall'altra parte come fornire alimentazione questi sistemi quindi in continuo in alternata che tecniche che tipi di apparati avere e diciamo che per voi questo dovrebbe essere la parte diciamo dove cominciate a vedere il prodotto finale quindi diciamo le caratteristiche dei ricevitori e dei trasmettitori come sono fatte le antenne perché sono fatte in un certo modo le dimensioni che cosa sono quei quei cavi che prendono il nome di linee di trasmissione cioè tutto quello che porta il segnale radio dalla radio all'antenna come avviene la propagazione guarderemo proprio per darvi una visione a 360 gradi come sono fatti i punti ripetitori perché sono fatti in un certo modo quindi diciamo che tutta questa serie di informazioni che partono con l'ABC finiscono diciamo con una visione a 360 gradi di quello che potete fare dei danni che potete causare dei controlli che dovete fare le manutenzioni che dovete fare per fare in modo che il vostro segnale sia sempre pulito e che nessuno abbia modo di lamentarsi di qualcosa che è non fatto in modo adeguato volevo dire solo una cosa un appunto al signore che ha chiesto dei titoli di studio se per caso qualcuno ha dei dubbi sul tipo di titolo di studio perché spesso anche nei certificati di tipo militare fanno differenza ad esempio tra radio telegrafista radio telefonista di aerei di di navi c'è la possibilità tramite il ministero di chiedere un consulto quindi se avete dei dubbi diciamo faremo in modo di appurare se cascano dentro all'esame ridotto ho finito grazie grazie claudio e direi che il prossimo è armando sì buonasera mi sentite Andrea mi senti sì forte chiaro bene direi che così l'audio deve essere anche abbastanza comprensibile ok allora signori buonasera io sono armando il mio indicativo di stazione e india uniform 4 foxtrot india tango vi sto parlando da modena in questo momento siamo qua nella sede dell'area di modena che avevo pregato al nostro presidente regionale di scrivere che chi avesse avuto il piacere di venirci ad assistere qua in sezione per visualizzare la nostra sede le nostre apprecchiature conoscerci di persona lo poteva fare sono arrivate quattro aspiranti di cui li ringrazio per la loro presenza anche per queste condizioni meteo che non sono proprio delle migliori detto in questa premessa vi illustro rapidamente quali sono le serate che riguardano la normativa che sostanzialmente ne saranno tre le procedure amministrative regolamentazione radiantistica italiana in pratica tutto ciò che riguarda la normativa italiana quella internazionale nella seconda serata e poi ci sarà la terza serata che racchiuderà tutto quanto riguarda codice fonetico codice EQ e BAMPLANE che sarebbe l'ospetto di frequenze assegnate a noi radiamatori e le precauzioni due di esercizio saranno tre formatori diversi che faranno queste serate io non ne farò neanche una quest'anno per piacere di qualcuno e per dispiacere di qualcun altro sicuramente ma io quest'anno faccio soltanto da organizzatore presiderò comunque in ogni serata qui in sezione perché queste serate di normativa saranno svolte dall'area di Modena almeno con la mia presenza per coloro che verranno qua e quindi non sarò io il relatore cosa si parlerà in queste serate la serata di normativa italiana di legislazione italiana sarà presentata da Andrea la persona che vi ha tenuto impegnati fino adesso con una piccola anticipazione di un altro nostro socio che farà una piccola introduzione generale della normativa sia nazionale che internazionale e poi l'ultima parte sarà affidata alla signorina lì che vedete in un 4 Quebec Sierra Victor la Martina che si occuperà delle procedure di esercizio e vi darà anche qualche informazione extra che poi successivamente passerà a lei la parola e si occuperà in prima persona detto questo brevemente perché la serata è già pesante già lunga io metto a te Andrea pensando di non aver dimenticato nulla in questa piccola presentazione delle nostre serate quindi ringrazio tutto intanto per la partecipazione di essere qui con noi sperando che tantissimi so che non è possibile che tutti arriverete alla fine del percorso perché non è mai esistito che il 100% degli aspiranti iniziali arrivino alla fine perché per motivi vari qualcuno purtroppo ci molla ma me lo auguro chissà forse 2023 può essere un anno che l'eccezione che conferma la regola per cui benvenuti a bordo spero per tutti e ci sentiremo e ci vedremo sicuramente prossimamente a te andrea io penso di aver concluso qui grazie armando grazie anche a claudio e a marco per i loro interventi e andiamo avanti programma di esame ovviamente corso per sostenere la patente di radioamatore però è anche bene pensare a diventare radioamatore ancora una volta e noi oltre appunto a organizzare quelle che sono le lezioni settimane stiamo mettendo diciamo così in pratica o stirando per meglio dire un calendario di attività tra virgolette definiamo le sociali ok però sicuramente sono sempre cose relative al diventare radioamatore e in particolar modo vorremmo portarvi a visitare quelli che sono alcuni simboli che sono presenti poi all'interno della nostra della nostra regione e prima di tutto la casa di Gujalmo Marconi dove tutto ebbe inizio fondamentalmente lì veramente vi troverete in un ambiente molto affascinante sentirete proprio il profumo della storia degli eventi è veramente fantastico e pazzesco come posto ok è un museo è un'attività poi una vista guidata ovviamente ci saranno le guide che illustreranno il percorso daranno informazioni e vedrete che è veramente un'attività grandiosa ancora non sappiamo se effettivamente questa visita sarà fatta a marzo oppure a giugno stiamo ancora valutando la disponibilità da parte diciamo della fondazione Gujalmo Marconi per accogliere un nutrito potenziale un nutrito gruppo di partecipanti ok comunque ovviamente poi vi faremo vi faremo avere maggiori dettagli a riguardo molto probabilmente però ad aprile andremo a visitare quello che è la collezione Pela Galli una collezione di radio d'epoca fondamentalmente che si trova a Bologna poi a maggio e a settembre vorremmo ritrovarci diciamo così a quello che uno degli eventi uno dei mercatini radiomatoriali più famosi in Italia in questo momento che da tanti anni poi soprattutto perché ormai viene svolto da tantissimi anni che è appunto il mercatino di Marzaglia vicino a Modena si tratta di un ampio campo ok un parco camper se non ricordo male dove praticamente lì vengono un sacco di radiomatori con il proprio materiale e mettono in vendita i loro oggetti insomma si fa scambio si fa ovviamente anche socialità perché è proprio uno dei momenti conviviali diciamo così dell'attività radiomatoriale e poi come vi anticipavo prima a luglio il 7,8 e 9 di luglio è prevista sono è prevista diciamo così l'Olimpia di dei radiomatori che si svolgono appunto in Emilia Romagna e noi vorremmo organizzare diciamo così dei gruppi per andare nelle varie posizioni dove praticamente questi team queste squadre sono sono dislocate per competere in questo evento e ho volutamente deliberatamente esaltato giugno-ottobre perché comunque in questo periodo diciamo estivo mettiamolo sotto questo aspetto post estivo cominceremo soprattutto la parte dei ripassi che vorremmo eseguire diciamo così direttamente in sede ovviamente per chi ha la possibilità di andare nelle sedi delle sezioni ari dell'Emilia Romagna con gli altri ovviamente ci possiamo riunire e comunque saremo tutti quanti in generale riuniti attraverso diciamo così la piattaforma teams come stiamo facendo in questo momento ok e soprattutto poi arrivare al periodo di ottobre di dicembre con le varie convocazioni presso gli spettorati territoriali e appunto dita incrociate superare l'esame per io spero per tutti voi veramente spero che riuscirete a a seguire il corso e ad avere soprattutto la costanza e la motivazione giusta per seguire questo corso Paolo vedo che hai la mano alzata prego vieni pure non ti senti mi sentite adesso adesso sì sì perfetto volevo salutare chiedo scusa per il ritardo ma purtroppo io lavoro in ospedale stasera abbiamo avuto un'emergenza e prima delle 22 e 30 non sono riusciti a collegarmi volevo capire una cosa visto che ci sarà da studiare ovviamente verranno poi mandate tramite mail delle slide in modo da poter approfondire la roba chiedo scusa purtroppo non essendo stato presente mi sono perso la parte più importante sono arrivato quando già si parlava dei vari patentini quindi ci dovremmo assistire no in realtà non ne abbiamo ancora parlato quindi diciamo che sei arrivato anche diciamo nel momento giusto ok finora abbiamo fatto diciamo così una chiacchierata nessun problema comunque nessun problema comunque come vedi la serata il nostro collegamento è registrato quindi poi potrai recuperare in qualsiasi momento ok della settimana metteremo a disposizione video di tutti quanti è un video pubblico quindi non sarà soltanto riservato a voi e arriveremo a rispondere a questa tua domanda veramente fra due tre diapositive ok quindi lascio un attimo in sospeso e poi ti daremo tutti quanti i dettagli almeno delle anticipazioni perché poi la lezione successiva sarà quella in cui spiegheremo veramente dei dettagli come come organizzato il corso e come andrà avanti sicuramente però c'è da studiare come giustamente dicevi e noi consigliamo sempre di prendere come riferimento quello che diciamo fondamentalmente è chiamata la Bibbia del radiomatore ok che è questo libro che vedete si chiama Radiotecnica per radiomatori è un libro che di base costa 15 euro qualsiasi edizione di questo libro va benissimo perché nel tempo ovviamente sono stati fatti accorgimenti e così di questo tipo per chi poi si iscriverà realmente al corso quindi deciderà di far parte diciamo di questo gruppo di studio e noi siamo riusciti ad ottenere un codice di sconto del 25% quindi ci sarà una riduzione quindi da 15 euro si viene a pagare di circa 11 euro e 20 se non ricordo male se ho fatto se ho fatto bene il conto ok quindi c'è una una certa riduzione rispetto al prezzo di base poi ovviamente ci sarà quello che è il portale della formazione radioamatori si diventa punti t che è la pagina principale che voi vedete di questo di questo sito ok in realtà è il vero e proprio portale di studio cioè dove voi qui troverete tutto il materiale didattico che vi forniremo il materiale didattico saranno presentazioni come questa per esempio quindi avrete a disposizione il file pdf avrete anche a disposizione le registrazioni avete a disposizione appunti avete a disposizione tanto altro materiale didattico ok ovviamente poi vi spiegheremo nei maggiori dettagli la volta prossima come come accedere al portale come ottenere il materiale come lo riceverete ok come come visualizzarlo e come verranno anche svolte le lezioni e per quanto riguarda questa diapositiva io adesso lascio la parola a Martina Martina ci sei? Sì grazie grazie Ciao a tutti io sono Martina ho preso la patente l'anno scorso quindi come voi ho iniziato il corso a gennaio del 2022 e rispetto ai miei colleghi io parto da conoscenza zero cioè nel senso che sono partita e che nemmeno sapevo cos'era il radiomatore quindi a chi come me parte magari è un po' titubante nel senso ho sentito elettronica radiotecnica le antenne i circuiti e non sa niente ecco io sono l'esempio che si può fare concretamente e nemmeno tanto sforzo l'importante sì come potete vedere la costanza la motivazione devono esserci sempre perché magari voi iniziate oggi vi trovate a marzo che non capite più niente noi prima di tutto ci siamo sempre resi disponibili sempre quindi ogni domanda ripassi non ho capito scrivete chiedete non c'è problema però ecco non arrivate a marzo vi buttate giù e poi abbandonate perché avete perso del tempo e tempo è vita e la vita non si butta bisogna arrivare in fondo anche se ci arrivate zoppicando perché qualcuno che vi aiuta lo trovate e noi non vi abbandoniamo seguire le lezioni sempre perché ovviamente vengono spiegate quindi anche lì c'è opportunità di capire argomenti che magari se fate in autonomia non riuscite a capire il concetto anche per quelli ci sarà disponibile comunque del materiale aggiuntivo semplificato e non ci siamo a vostra disposizione basta veramente poco proprio pausa pranzo la sera prima di andare a dormire una letta generare gli argomenti fatti guardare il video anche a spezzoni non lo so qualunque cosa ma veramente tutti i giorni poco tempo ma con costanza e poi che altro non bisogna procrastinare perché poi le cose si accumulano e arrivare in fondo perché la soddisfazione poi di aver fatto un percorso lunghissimo che per qualcuno è lunghissimo per qualcuno è molto breve è incredibile io per prima lo dico sono arrivata in fondo partendo con l'idea oddio non ce la farò mai invece adesso mi trovo qui con loro ad aiutare chi viene dopo di me ad arrivare in fondo questo è lascio la parola Andrea se vuole concludere grazie Martina veramente hai detto delle cose ottime veramente non veramente non scoraggiatevi è normale che soprattutto per chi sente parlare di radio amatore per la prima volta o comunque vede questi concetti per la prima volta può avere un po' di titubanza un po' di timore noi siamo qui apposta per aiutarvi ok e soprattutto domandate non abbiate paura di domandare potete mandarci mail vedete tra un attimo che abbiamo creato appunto dei canali social che vi consigliamo vivamente ai quali vi consigliamo vivamente di unirvi ok più condividete i vostri dubbi più noi vi aiuteremo a risolverli e soprattutto vi aiuterete anche tra di voi a risolverli perché questo è l'obiettivo fondamentale del corso soprattutto di un corso che viene svolto da remoto ok purtroppo non abbiamo la possibilità di vederci fisicamente o comunque pochi hanno la possibilità di vedersi fisicamente chi è in questo momento riunito per esempio nella sezione ari di Modena o nella sezione ari di Bologna la stragrande maggioranza di noi è a casa propria e siamo appunto dalla dalla Scozia fino a Reggio Calabria oggi come potete vedere ok quindi condividete i vostri dubbi chiedete fate domande noi siamo tutti qui ad aiutarvi e a rispondere ok non è che fate la domanda a me e rispondo soltanto io chiunque è in grado di rispondere all'interno del team di formazione ok siamo tutti quanti radioamatori abbiamo tutti quanti seguito lo stesso identico percorso vostro alla fin fine ok quindi non scoraggiatevi questo è veramente importante arriviamo all'ultima parte costo del corso e noi abbiamo sempre detto che il corso è gratuito ed effettivamente è così noi facciamo tutto questo lavoro di formazione in maniera completamente gratuita e volontaria ok l'unico costo che noi fondamentalmente chiediamo per partecipare al corso è l'iscrizione alla nostra associazione come Radio Club perché voi al momento ancora non siete radioamatori ok quindi la nostra associazione permette a chiunque sia radio appassionato ok di comunque far parte dell'associazione ma fondamentalmente il motivo per il quale chiediamo l'iscrizione alla nostra associazione è quella di ricevere la nostra rivista anche attraverso il nostro organo ufficiale di comunicazione voi imparerete qualche cosa che vi tornerà utile anche per sostenere l'esame ok comincerete a entrare nel mondo radioamatoriale a comprendere quelli che sono i concetti le terminologie e soprattutto comincerete anche a frequentare la sezione quella che sta più vicino a voi ok a conoscere nuova gente potete a chiedere anche supporto a loro la quota di iscrizione è variabile nel senso che dipende un po' anche qui da età e soprattutto da come volete ricevere la rivista si va da un minimo di 31 euro ok per la quota junior in rivista in formato elettronico fino a un massimo di 70 euro per una quota diciamo ordinaria e la rivista cartacea ok comunque poi i dettagli ve li daremo tutti quanti nella prossima nella prossima lezione a questi poi vanno aggiunti 5 euro di iscrizione perché questo è diciamo la quota fissa per la pratica di per sé e vi dicevo prima noi in Emilia Romagna abbiamo 17 sedi sparse su tutto il territorio regionale come potete vedere si va da Piacenza fino a Rimini e in alcune province come vedete ci sono anche più di una sede quindi per esempio a Parma si va tra Fidenza e Parma stessa o a Reggio Emilia si va anche su Scandiano sulla provincia di Modena si va a Modena a Carpi o a Vignola e nella provincia di Bologna scusatemi si va su Bologna su Imola o su Cacarecchio di Reno ok e poi abbiamo la sede di Ravenna la sede di Faenza di Cisena di Rini di Forlì e di Ferrara ok quindi sono in tutto 17 ovviamente per tutti coloro che ci seguono poi dalle restanti regioni d'Italia molto probabilmente vicino a voi ci sarà una sede ARI ok basta semplicemente trovare quella più vicina e basta anche una semplicissima ricerca su internet se non riuscite a trovarla contattateci vi daremo una mano noi noi abbiamo gli elenchi di tutte quante le sedie in Italia anzi magari potrebbe essere eventualmente utile pubblicarlo direttamente già sulla sulla pagina principale del nostro del nostro portale di formazione nel caso ok e quindi diventare socio significa ricevere la nostra rivista un esempio lo vedete qui nella nostra immagine ovviamente viene riportato tutto quello che le attività del mondo radioamatoriale italiano e ovviamente anche eventi diciamo importanti a livello internazionale però soprattutto avrete accesso a quello che è la vita associativa della vostra sezione la sezione Ari è sempre comunque aperta a chiunque ok io provocatoriamente ho messo anche il titolo dove c'è Ari c'è caso un po' per riprendere un po' quella famosa pubblicità della barilla no nel senso che siamo aperti a tutti anche a chi non è socio fondamentalmente l'importante è accogliere questo è il nostro concetto ripeto il vantaggio principale dell'essere socio è quello di ricevere il nostro organo ufficiale che è una rivista mensile praticamente vi dobbiamo però anche informare che noi come comitato regionale abbiamo deciso di unire gli sforzi di 16 delle 17 sezioni che compongono diciamo così l'associazione a livello regionale ok e quest'anno ancora una volta la mia sezione infatti sono afferente alla sezione ARI di Parma ok perché storicamente negli ultimi anni ho vissuto a Parma prima di trasferirmi a Verona e in quest'anno ho deciso di andare ancora una volta per un corso in completa autonomia però questo non vuol dire che chi è di Parma e vuole andare e iscriversi a Parma vuole andare a frequentare Parma è libero di farlo ok noi non mettiamo nessun vincolo nessun paletto questi sono diciamo quello che vi dicevo prima i costi relativi alla chiamiamola iscrizione all'associazione quindi 70 euro massimo diciamo così più i 5 euro dell'immatricolazione ai quali poi vanno aggiunti i 15 euro del libro di testo però in realtà chi seguirà il corso può ottenere uno sconto del 25% ok e questi sono diciamo i costi relativi diciamo alla formazione mettiamolo sotto questo aspetto ok per quel che riguarda poi ammissione all'esame richieste di nominative e autorizzazione generale questi sono tutti quante quote fisse ok fisse per tutti e sono appunto imposte dallo Stato marche d'abollo da applicare sulla domanda di ammissione all'esame un'altra marca d'abollo che andrà applicata sulla patente nel momento in cui supererete l'esame e vi verrà spinta a casa la patente e 25 euro di contributo per il versamento appunto per sostenere l'esame nel momento in cui poi richiederete il nominativo e l'autorizzazione generale come vedete ci sono sempre delle marche d'abollo coinvolte nel processo e i famosi 5 euro annuali che comunque dovete già anticipare la prima volta che fate la richiesta di autorizzazione generale ok quindi in totale come potete vedere si va dai 150 ai 180 euro ancora una volta qui dipende sempre dall'età perché il costo di iscrizione all'associazione è dipendente dall'età allora noi siamo praticamente arrivati alla fine della nostra del nostro primo incontro e lunedì prossimo che è il 30 gennaio e vi daremo maggiori dettagli sull'organizzazione del corso stesso ok e appunto come accedere alla piattaforma per esempio come soprattutto puoi procedere all'iscrizione all'associazione stessa vi daremo un link dal quale voi compilerete una domandina stamperete un file pdf e poi lo trasmetterete a noi con ovviamente poi il relativo distinta di pagamento per il versamento poi nei lunedì successivi cioè 6 febbraio e 13 di febbraio noi inizieremo il vero e proprio corso teorico ok quindi avremo le prime e seconda lezione del corso e soprattutto per quanto riguarda l'elettrotecnica come argomento ok e come vedete dal messaggio scritto rosso e grande queste due lezioni saranno comunque ad accesso libero garantite a tutti quanti voi partecipanti dal 20 febbraio in poi quindi fondamentalmente dal mese prossimo ok daremo soltanto però accesso solo agli iscritti al corso quindi a coloro che hanno effettivamente eseguito l'iscrizione all'Ari Radio Club contestualmente alla vostra iscrizione all'Ari Radio Club noi vi daremo accesso a quello che è il portale di formazione cioè l'accesso al sito privato diciamo così di radio matonisi diventa punto it detto questo siamo perfettamente in linea con gli orari abbiamo cominciato alle 9 e 10 e sono praticamente gli 11 e 8 minuti quindi abbiamo impiegato esattamente le due ore che avevamo previsto se ci sono domande ovviamente noi abbiamo ancora del tempo a disposizione siamo qui per rispondere ai vostri dubbi e le vostre curiosità quel che però vi invitiamo anche fin da subito a fare se non avete telegram installatelo sul vostro telefonino sul vostro smartphone ok e unitevi a quello che è appunto il canale di informazione del nostro corso ok da qui riceverete tutti quanti gli aggiornamenti tutte quanti le informazioni di giorno in giorno di settimana in settimana ok ovviamente poi potete sempre fare riferimento a quello che è la nostra casella email ufficiale del corso che è corso.aricrer che ho c'era gmail punto com ci sono io c'è anche Luigi che è un altro radioamatore che fa parte del team di formazione ok che risponderemo a tutte quante le vostre email e poi ci sono magari anche altri che comunque hanno accesso alla casella ed eventualmente possono darci una mano però fondamentalmente saremo sempre quasi sempre io e Luigi che risponderemo alle vostre domande ok ci sono domande curiosità qualche cosa che non vi è chiaro che volete approfondire in questo momento noi siamo qui a vostra completa disposizione prego Claudio sì io ho una domanda da farvi allora io praticamente mi sono iscritto con una mail scusate la voce ma l'ho persa mi sono iscritto con una mail ma libero adesso è bloccato e non funziona come faccio a cambiare la mail di iscrizione cambio allora fai una cosa manda una mail qui a corso.ricreer che ho c'è la gmail punto com dal tuo nuovo indirizzo email ok mi dici il tuo nome e cognome di modo tale che così andiamo e modifichiamo quello che è il tuo riferimento va bene grazie figurati Pietro Antonio vedo prego sì buonasera solo informazione la sede di esame finale è legato alla residenza alla residenza ufficiale diciamo così io sono solo domiciliato in Emilia Romagna la mia residenza è in Campania volevo sapere se la Campania o Bologna la sede di esame sì allora di norma è così di norma è come dici tu nel senso che l'esame andrebbe sostenuto l'esame per l'ottenimento della patente andrebbe sostenuto dell'ispettorato territoriale di residenza però se tu vivi sei domiciliato di lungo corso in un'altra regione per motivi di studio o di lavoro tu puoi chiedere in deroga di fare l'esame nella regione in cui ti trovi esattamente come ho fatto io ok io ero residente in Calabria nel 2011 perché quella è la mia la mia zona di origine ma vivevo e lavoravo a Genova ok quindi avrei praticamente dovuto attraversare tutta quanta l'Italia per arrivare a Reggio Calabria per sostenere l'esame e basta presentare allegare alla domanda di iscrizione dell'esame il fatto che tu vuoi sostenere diciamo così l'esame nella tua regione di domicilio proprio per motivi di lavoro ok e quindi ti verrà garantito di sostenere l'esame a Bologna in questo caso grazie prego e vedo altre mani alzate mi sembra che ci sia qualcun altro un attimo Giuseppe sì buonasera Giuseppe Camastra Piacenza magari l'avete detto e l'ho perso ma la lezione di lunedì prossimo riceveremo un'altra mail con un altro link o sarà già operativo il portale online allora per l'incontro di lunedì prossimo vale ancora una volta il link di questa sera ok io eventualmente posso poi inoltrarvi diciamo così un gentile promemoria diciamo con questo link ok io quando ho organizzato il link diciamo la riunione telematica l'ho fatto valere per due incontri consecutivi poi l'accesso al portale verrà fatto nel momento in cui tu avrai eseguito l'iscrizione all'associazione da quel momento che noi riceveremo la tua documentazione allora ti invieremo anche le credenziali di accesso al portale ok grazie mille io l'iscrizione l'ho fatta quindi attendo l'accesso sì perfetto tu sei uno di quelli che se non sbaglio è già iscritto Radio Club direttamente in una sezione ARI giusto? sì ARI Fidenza esattamente sì io ho già raccolto i vostri i vostri nominativi ok quindi di settimana provvederemo alla creazione dei vostri account così avrete subito accesso al portale ok grazie mille vedo prego prego figurati Alfio sì grazie grazie una domanda vedo beh parte il fatto volevo informare l'amico di Fidenza che la mail è già arrivata per il prossimo incontro vabbè comunque ci sarà anche lui ma ci ho detto io sono già iscritto un'altra associazione di protezione civile l'iscrizione a DARI comporta anche l'iscrizione su Starp o è soltanto l'iscrizione al club di Buster Cap no eh l'iscrizione non so qual è l'associazione di protezione civile tu sei iscritto però prego interveni tu non c'entra niente perché tu a Starp devi dichiarare una e una sola associazione di protezione civile tu devi garantire il primo intervento in Starp in una sola associazione quindi rimane la tua non quella dell'Ari a meno che tu un domani non voglia cambiare grazie prego vedo Davide Canella prego attivo il microfono mi sentite? sì perfettamente perfetto ciao a tutti sono Davide Canella e sono di Ferrara volevo chiedere un'informazione per quanto riguarda l'esenzione parziale perché avevo pensato di fare questa questa modalità qua avendo già un degli studi pregressi diciamo dalla dalla maturità ecco dell'ITIS avendo fatto elettronica e telecomunicazione credo di di poter fare appunto l'esame per esenzione parziale volevo chiedere a proposito di questa questa modalità qua se posso partecipare quindi anche al corso in modo parziale o se devo fare anche appunto anche tutta la parte all'inizio di elettrotecnica di elettronica e via dicendo no assolutamente nel momento in cui tu hai diciamo la prova che dimostra il fatto di avere già la competenza e quindi poter richiedere l'esonero per sostenere l'esonero parziale per sostenere l'esame per la patente a questo punto non è necessario che tu segua tutto quanto il corso però dovrai quanto meno seguire quelle lezioni che riguardano la normativa perché a te saranno fatte solo e soltanto le domande di normativa per l'esame ok 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 grazie prego e ci sono delle date ben specifiche per quello quindi la settimana prossima poi forniremo il calendario completo infatti volevo chiedere appunto se potevo magari appunto saltare questa tutta la parte introduttiva e andare direttamente su quelle che potrebbero essere appunto le date dove vengono sviscerati un po' questi argomenti un po' più pertinenti alla mia ambito cioè alla mia parte ecco insomma tutto qua sì assolutamente sì non so se c'è anche qualcun altro appunto che che fa conta insomma di fare l'esenzione parziale ecco tutto qua lo scopriremo ma immagino che qualcuno ci sarà anche è probabile ok va bene grazie figurati Davide grazie a te e vedo la mano alzata di Giacomo mi sentite sì ci sentiamo ok buonasera ho provato di fare l'iscrizione al canale telegram mi dice link scaduto Claudio mi dovrebbe già conoscere che ho provato di fare l'esame a ottobre a Bologna ma a causa al lavoro che era massacrante non non ce l'ho fatta e ci riprovo come ho detto che non mi arrendevo ci riprovo quest'anno mi dice comunque mettendo il link o scansionando l'immagine link scaduto è perché io sono già iscritto a telegram con il corso dell'anno scorso è possibile intervengo io è possibile è possibile se l'hai il mio contatto iu4papasierrazullu psz ti guardo chiocciola iu4papasierrazullu scrivimi in privato perché se ti ho cancellato come utente dell'anno scorso probabilmente ti devo sbloccare allora aspetta chiocciola che ti scrivo subito iu4papasierrazullu pszpapasierrazullu 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 grazie ciao ok altre domande curiosità anche da eventualmente direttamente dalla sede di Modena o di Bologna nel caso ok se c'è qualcosa che volete condividere prego Paolo mi sentite si adesso si eh no chiedevo solo così una cosa al volo io il libro ce l'ho già devo posso usare quello che ho io quello di Nero Neri proprio quello che avete fatto vedere sì sì assolutamente va benissimo va benissimo quello ho preso un po' di tempo fa e me lo ritrovo insomma ce l'ho quindi assolutamente sì sì nessun problema o se avete degli amici che ve lo possono dare o che vogliono regalare nessunissimo problema quello è semplicemente il libro di riferimento per l'esame ok se non ce l'hai noi possiamo fare ottenere uno sconto del 25% se ce l'hai già meglio ancora nessun problema ok grazie mille prego figurati noi qui a Modena siamo a posto ragazzi ringrazio anche per la tua semplicità nel esporre tutto e soprattutto la tua bella calma che hai avuto per per farci addommentare più in fretta stasera grazie grazie a voi vedo la mano alzata di Simone prego buona serata a tutti esposito saluta buona sera perfetto grazie allora direi che se non ci sono altre domande o curiosità attendiamo ancora qualche altro secondo possiamo eventualmente poi chiudere la serata Claudio prego sì volevo visto la domanda prima della questione titoli o diplomi chi chi vorrà fare l'esame parziale deve poi fornire il titolo di studio quindi la domanda è fatta ad hoc quindi salteranno tutte fuori quindi chi chi pensa abbia cura di andare a rispolverare il diploma perché poi ne servirà una coppia ecco ecco Andrea ho tre presenti uno degli aspiranti che in realtà lui è già in possesso del titolo nel senso che quanti anni fa diversi anni fa parliamo di una persona che ha fatto un esame anzi non ha fatto l'esame l'ha ottenuto per titolo di studio ma licenza India Whiskey 4 quindi parliamo di un tot di anni fa pertanto la sua iscrizione a noi sarà poi successivamente qualificata come socioordinario direttamente non come aspirante sì esattamente sì ti passo i riferimenti dopo per il mail perfetto ottimo sì per essere completo nelle informazioni tre presenti ho una persona che farà il parziale perché il titolo di studio perfetto ottimo vedo un bel po' di mani alzate quindi non so se Simone ha già fatto il suo intervento e quindi è rimasta la mano alzata o devi ancora chiedere altro no devo ancora chiedere ok perfetto sono previste non so ad esempio delle esercitazioni pratiche e se sì dove sì assolutamente sì sono previste le esercitazioni possono essere previste diciamo così già a lunedì sera stesso oppure ci sono anche delle sessioni che noi abbiamo dedicato proprio al ripasso e all'esercizio soprattutto in prossimità dell'esame stesso ok in modo tale che ci sia diciamo possibilità di ripetere ciò che è stato fatto per esempio già nel periodo iniziale del corso ok quindi ci sono vari momenti nel corso dell'anno va bene grazie prego figurati e Giacomo ah ok niente volevo cogliere l'occasione per salutarvi tutti perché è meglio che visto che non siamo arrivati alla fine della serata io domani mattina alle 5 e mezzo mi devo altare perfetto con il mio bestione che è sotto casa perfetto va bene grazie allora grazie ci sentiamo poi la settimana prossima sì e lì sì vi manderò vi manderò poi dopo l'iscrizione e tutto quanto perché io comunque vado avanti sono deciso di andare avanti non sono non devo tentennare perfetto ottimo dai comunque allora poi tutti i dettagli saranno dati la settimana prossima anche perché noi ci siamo sediti ieri sera alle 11 via magari ci sentiremo poi in un altro momento con l'altro mio amico che si iscrive anche lui però di là dove sono anch'io perché noi abbiamo fatto un gruppetto un'altra parte sì perfetto benissimo dai non è proprio vicino casa ma è lo stesso ottimo ci organizziamo allora grazie buonanotte allora buona serata buona settimana grazie vedo Elia e Carlo ciao ragazzi qui siamo un po' una comunitiva perché sono io e i miei due figli che vogliamo partecipare al corso io sono un po' recidivo perché il corso ed esame cercai di farlo nel 70 nel 1970 ma c'era l'ostacolo del CVW e io con l'alfabeto Morse ho sempre avuto una grossa difficoltà infatti non sono riuscito a dare l'esame però il mondo il mondo del radiomotore mi è sempre rimasto un po' un po' dentro anche perché l'ho fatto come attività fino a due anni fa perché avevo un'azienda di telecomunicazioni pertanto in più mi diletto a insegnare telecomunicazioni a scuola lì a Ferrara pertanto sono abbastanza dentro dentro al settore è una domanda scherzosa era questa cioè vale ancora il diploma di elettronica fatto nel 74 o non vale più assolutamente direi direi assolutamente sì voglio dire un diploma non scade mai i concetti sono sempre quelli non è che cambiano quindi assolutamente sì quindi direi che anche per te a questo punto vale semplicemente il fatto di dimostrare devi essere in grado di recuperare il diploma come diceva prima Claudio ok diciamo che il diploma da qualche parte ce l'ho perfetto ma seguo il corso per intero perché i ragazzi i miei figli uno fa il cuoco pertanto di elettronica elettrotecnica proprio zero pertanto seguirò lui così mentre invece Elia è diplomato in informatica ma non non è sufficiente credo per esatto e allora farò un po' di tutto per loro ottimo è un'ottima cosa è bello insomma che vi trovate anche diciamo a livello familiare per seguire questa cosa insieme proprio una bellissima occasione di trascorrere il tempo insieme quindi sì per te sicuramente vale l'esonero parziale e soprattutto non avere paura perché il cw la telegrafia non è più richiesto per l'esame quindi non è soltanto seguire quelle che sono le tre tre quattro lezioni di normativa ok e quindi sostenere l'esame solo e soltanto sulla parte di normativa per quanto ti riguarda sì sì perfetto bene ok ciao ci sentiamo nelle prossime lezioni ottimo perfetto grazie ciao Nicola sì ho provato il link su telegramma e non sta funzionando anche a me dice che è scaduto però non ero scritto niente quindi non so se forse andrà rifatto e allora a questo punto sì vedremo magari è stato cambiato qualche qualche cosa e quindi va riaggiornato io avevo avevo un centinaio di nominativi da pulire dalla vecchia lista e ho appena finito quindi vi consiglio di riprovare chi eventualmente avesse dei problemi mi scrive in privato su telegram chiocciolina iu4psz papa sierra zulu lo ripeto iu4psz non abbiate paura scrivetemi che risolviamo alla barba ma non è cattivo non abbiate paura scrivetemi pure tranquillamente quindi ho un po' problemi con telegram mi dice proprio che non lo trova non trova il link comunque vabbè ok allora adesso poi daremo anche un'occhiata a questo link così vediamo di risolvere anche per la per la settimana prossima lo ho testato in questi minuti anche inquadrandolo proprio qui dalla tua presentazione e a me mi riporta sempre all'interno del canale non vorrei che magari boh vediamo che cosa combina apri in telegram sì anche a me riporta nel canale effettivamente ha i 2023 channel dove ci sono già 57 iscritti però appena riprovato non funziona fosse anche un problema non preoccupatevi voi assicuratevi di aver scaricato telegram e poi cercatemi come utente sì vediamo un po' cosa cosa succede comunque scopriremo fate comunque per il momento riferimento a questo anche poi una volta che rivedrete il video e Claudio quindi mi sembra che Claudio Morciano ok credo che tu sei hai già fatto l'intervento se non sbaglio giusto ok Claudio Gatti mi sentite sì ciao Claudio perfetto buonasera a tutti un'informazione pratica siccome io abito nella bassa modenese un po' nel triangolo tra le tre province e le tre sedi ari Carpi Modena e Ferrara chiedevo il corso si può seguire anche solo per via telematica o sono previste anche lezioni o qualche cosa a livello di di frequenza in presenza diciamo così perché io avrei dei seri problemi a muovermi cioè io sono a Modena tutte le mattine però per dire venire a casa per poi tornare dopo cena diventa un po' problematica la cosa per me esattamente no assolutamente nel senso che di base tutte quante le lezioni sono comunque in comune ok quindi chi segue da casa chi va direttamente in sede la lezione è sempre la stessa ok ci organizziamo proprio a livello informatico affinché siamo tutti organizzati e sincronizzati scusami alla stessa maniera quindi ovviamente nel tuo caso non ti obblighiamo a ritornare indietro a Modena o ad andare a Ferrara o a qualsiasi altro posto puoi tranquillamente vederlo da casa tua giustamente chi ha la possibilità di andare in sede ovviamente noi ovviamente le sedi che sono poi disposte ad aprire perché al momento abbiamo confermato Bologna e e e Modena come avete visto questa sera e con le altre stiamo ancora lavorando insomma per trovare diciamo così dei volontari disponibili ad andare ad aprire la sede quindi sentitevi liberi ovviamente noi spingiamo affinché andate in sezione in modo tale da conoscervi anche ok e quindi interagire con con persone in maniera in maniera diretta però nulla vieta che se voi volete partecipare da casa lo potete fare benissimo nessun problema Andrea posso aggiungere una cosa assolutamente prego Armando sì come detto Andrea non c'è alcun obbligo di venire qua in sezione per seguire le lezioni dalla sede assolutamente tanto la seguite qua in sede o da casa il contenuto non cambia assolutamente quello che dà un valore aggiunto stando qui in sede è il fattore di socializzazione che essendoci in presenza chiaramente si lega di più il rapporto umano che attraverso un monitor ovviamente questo non avviene assolutamente Modena ha dato da subito la disponibilità all'apertura della sede tutti i lunedì fermo restando chiaramente una cosa se io devo aprire la sede per due persone ovviamente capirete che noi siamo volontari queste nostre serate che tiriamo via la nostra famiglia per darlo a voi è una cosa in più che facciamo quindi se ci sta il presupposto che c'è un numero congruo di partecipazione allora noi veniamo qua apriamo la sede molto volentieri te scuriamo nel tempo con voi facciamo la direzione e facciamo anche qualcosa in più ma se il numero non è un numero tale da giustificare l'impegno di un nostro socio del consiglio direttivo che venga ad aprire la sezione tutti i lunedì sinceramente capirete che avanzeremo questa cosa qui e quindi anche quelle due persone che magari vorrebbero volontà di venire qui dovranno farlo da casa volevo chiattimo chiarire questa cosa che a secondo del numero degli iscritti che ci saranno e coloro che poi daranno effettivamente la disponibilità a venire in sede decideremo se fare le aperture tutti i lunedì qua o semplicemente qualcuno comunicandolo anticipatamente era un dettaglio che volevo appunto puntualizzare prima che si diffonda poi la voce in modo è sempre aperta però senza puntualizzare questa cosa dopo l'abbiamo fatto una brutta figura quindi era doveroso dirlo adesso a te Andrea prego sì assolutamente dettaglio precisissimo Andrea lei pure Andrea qui non so quanti Andrea ci sono domanda al volo così è già stato detto ma non me la sono persa per quanto riguarda poter partecipare alle lezioni l'iscrizione e il costo in base all'età come come si fa per tipo il modulo allora per quel che riguarda il costo ripeto questo dipende dall'età si va da un minimo di 31 euro se sei un diciamo minore di 26 anni ok altrimenti si arriva fino a 70 euro si va dai 60 ai 70 euro a seconda se vuoi ricevere dalla nostra rivista in maniera elettronica oppure cartacea quindi in maniera elettronica il prezzo più basso in maniera cartacea il prezzo più il costo più alto scusami più che prezzo invece per poter avere un modo per poter iscriversi esattamente questo poi vedremo il dettaglio la settimana prossima ci sarà a disposizione proprio una pagina ok direttamente disponibile da radioamatori sidiventa.it dal quale voi potete seguire l'iscrizione o meglio compilate un modellino fondamentalmente è un qualche cosa che viene generato automaticamente voi lo stampate lo firmate e poi comunicate nuovamente tramite tramite email ok esattamente come se dovesse firmare un documento non lo so che dovete poi trasmettere a una società o qualcosa o qualcun altro e assieme al documento poi anche la distinta quello del distinto di pagamento quello ci dà la prova che avete effettivamente poi fatto il versamento avete pagato e noi trasmetteremo poi questa informazione alla sede centrale di Milano che provvederà alla registrazione della vostra iscrizione ok ok grazie prego figurati e Claudio Morciano sì eccomi non stavo riuscendo a collegarmi su telegramma cioè il link non lo sto riuscendo a trovarlo e allora il link che c'è scritto ma non mi dà nulla ok hai provato a fare la scansione del codice a bar del codice scusami del codice a bar del QR code no sì 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 no non riesco perché se la cellulare il cellulare sì ok e vabbè allora fai una cosa penso già domani o al massimo nei prossimi giorni quindi mercoledì secondo me sarà già disponibile questo video direttamente dal nostro portale dalla pagina principale ok quindi prova poi a fare la scansione direttamente dal dal video del computer ok e speriamo che insomma risolviamo anche questo problema perché come hai sentito c'è qualcun altro che sta avendo problemi di accesso al canale telegram via la chat aperta qui su teams vi metto il link in questo momento cliccabile provate da lì facciamo anche una cosa facciamo anche una cosa e hai modo eventualmente questo è un link cliccabile o riesce a generare anche un altro QR code non lo so come può funzionare cliccabile ok dalla chat dovrebbero poterlo cliccare tutti facciamolo così guarda lo facciamo al volo utilizzate anche quest'altro ok ve lo metto qui c'è sempre il problema che non è abilitata la chat per certe persone e dove infatti e dovete ricopiarlo da qui sostanzialmente per questo l'ho preso e l'ho copiato qui sulla diapositiva ok quindi la chat non la vedete non la vedete proprio no sembra di no sembra di no anche questa è una cosa molto strana perché il pulsante c'è però non è non si può utilizzare non è abilitato esatto prova a metterlo dentro a domande e risposte comunque se posso lo pubblico dopo la 4 è una L minuscola e dopo la Z è una I maiuscola altrimenti dice che il link non è valido sì provate anche con quest'altro che vi ho appena messo qui sulla diapositiva ok nel caso vedo ancora un altro paio di mani alzate un attimo Fabrizio Calamida sì sono io ok sì sono io ho appena detto il discorso della L minuscola dopo il 4 ok perfetto e invece dopo la Z è una I maiuscola altrimenti dice che il link non è valido ok perfetto grazie e Marco sì ciao Andrea mi sentite sì perfetto ah niente perfettamente sì chiarire questo link poi se non ci sono altre chiarificazioni così ci sentiamo e ci vediamo il prossimo lunedì ottimo perfetto grazie mille Marco a presto grazie mille grazie ciao buonanotte buonanotte e Cristian Corsini sì ciao a tutti e vi volevo salutare perché anche io devo andare ormai quindi auguro la buonanotte a tutti grazie Cristian anche a te grazie per aver partecipato alla prima serata grazie a voi ciao se non ci sono altre domande o altre curiosità penso che insomma possiamo chiudere poi la riunione e andare tutti quanti a riposare ok perfetto direi che non ci sono altri interventi quindi grazie veramente per la vostra presenza per la vostra attenzione curiosità domande ci rivediamo lunedì prossimo ciao buonanotte buonanotte a tutti grazie ciao a tutti buonanotte buonanotte a tutti buonanotte 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 grazie buonanotte 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 a tutti buonanotte 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 a tutti anche da parte mia ciao buonanotte